buon pomeriggio e ben collegati al webinar dal titolo proteina ci reattivano sentinella vigile nell'ambito del progetto CRP C Reactive Protein che discuterà della possibilità di avere a disposizione come esame di prossimità un esame che valuta in maniera importante e precisa quello che è lo stato infiammatorio all'interno di un cittadino paziente. Quindi utile non solo nella sua determinazione a livello spedaliero ma anche soprattutto nella sua determinazione a livello territoriale. Io per questo ringrazio Andrea Mandelli che è Vice Presidente della Camera dei Deputati e Presidente della Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani. Io sono Carlo Dettanosto, Direttore Scientifico di Motore Sanità. Ringrazio il Professor Francesco Menichetti che è Presidente del Gruppo Italiano Stewardship Antimicrobica e noto infettivologo. Francesco Buono che è Secretario Organizzativo della FIMG di Roma, Clara Nebiolo che insieme a Alessandro Malpelo che è qui vicino a me, giornalista scientifico, andrà a moderare l'evento dopo la mia introduzione di scenario, Manuela Bandi che è Vice Presidente dell'Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda tra titolari di farmacia, Elena Bozzola. Buongiorno. Buongiorno Marrone Mandelli, ben arrivato a Motore Sanità. Grazie. Elena Bozzola che è Secretario Nazionale SIP, Francesco Lapi, Direttore Ricerca Health Search della FIMG, Eugenio Leopardi che è Presidente Federfarma Regione Lazio, Walter Marrocco, responsore scientifico FIMG, Luca Pacini, che è dottore all'Università della Sapienza Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche Facoltà di Farmacia e Medicina di Latina Alfredo Polcaccini, che è vicepresidente di Cario Federfarma e Teresa Rongai, segretario FIMP Lazio Bene, allora, onorevole Mandelli Lei ha tempo di ascoltare 5 minuti di un'introduzione in scenario o deve andare via subito? No, no, sento 5 minuti volentieri Grazie, onorevole Allora, vado con l'introduzione in scenario La proteina C reattiva, come voi sapete è una glicoproteina che viene prodotta dal fegato in risposta a traumi o infezioni o anche tumori che innescano processi infiammatori Solitamente non è presente nel sangue o è presente in bassissime quantità e comunque viene rilasciata in caso di infiammazione al luto come vedremo a diversi fattori È un utile marcatore che viene monitorato in tutti i casi che vengono individuate alla presenza di un processo infiammatorio o si voglia seguire la risposta a trattamenti terapeutici contro l'infiammazione stessa E un test multitasking può essere importante è importante per infezioni batteriche anche gravi sepsio, infezioni fungine per cui può essere utilizzato in pratica clinica come test diagnostico utile alla lotta alla resistenza antibiotica voi sapete che l'antimicrobico resistenza viene ormai definita la futura pandemia che può causare, se non interveniamo in maniera adeguata, migliaia e migliaia di morti nel futuro il rischio cardiaco in quanto viene liberato anche in seguito ad un attacco cardiaco ma vi è in corso una serie di trial che stanno valutando anche la prevenzione del rischio stesso perché se per esempio si supera 2,4 mg per litro di pratina C-reattiva vi è un aumento della possibilità di problemi cardiovascolari nel cittadino paziente e anche naturalmente nel patologie autoimmuni come detto il test PLC può valere per rischio cardiovascolare ma anche in caso di uscione ferite chirurgiche come in monitoraggio della convalescenza e nel post-trapianto di organi per verificare lo stato dell'organismo però bisogna ricordare che la proteina C-reattiva fornisce risultati specifici e non serve tanto a diagnosticarne una patologia quanto a valutarne il grado di gravità quando questa sia già comunque stata riscontrata nel paziente quando noi siamo di fronte a una proteina C-reattiva alta cioè che supera 5,6 mg per litro e può arrivare fino a 500 o 1000 mg per litro in caso di reazione infiammatoria estrema noi siamo di fronte a una situazione in cui bisogna in qualche modo assolutamente intervenire e bisogna in qualche modo determinarne la causa ultimamente grazie anche al rilancio di quella che è la medicina del territorio si sta arrivando a un concetto di diagnostica sia per quanto riguarda gli esami sanguini ma anche integrata a livello della medicina territoriale infatti il PMR è restanza come vedremo 9,6 miliardi per potenziare quello che interviene all'interno del territorio oggi sono già presenti nel territorio i cosiddetti point of care soprattutto all'interno delle farmacie di servizio i quali possono dare una diagnostica veloce per quanto riguarda la proteina C-reattiva un semplice test pungivito fattibile in qualunque momento all'interno delle farmacie di servizio che posseggono questa strumentazione per il PCR ma oramai noi avremo point of care anche per quanto riguarda esami diagnostici anche molto più sofisticati in attesa che questi point of care naturalmente vengono collocati anche all'interno degli ambulatori associati dei medici di medicina generale per i dati di vera scelta e naturalmente poi nelle future case di comunità o ospedali di comunità ci sono prove esistenti che tra l'altro mostrano che il point of care per la proteina C-reattiva non solo sono altamente efficaci con la riduzione del rischio assoluto della prescrizione di antibiotici al 15-22% ma sono importanti anche per capire qual è la risposta dell'eventuale terapia antibiotica che noi facciamo pensiamo semplicemente all'importanza che ha avuto la proteina C-reattiva anche nell'ultima pandemia da Covid-19 dove il suo test era uno dei test di valutazione per capirne anche come dire la gravità e soprattutto anche in terapia intensiva per valutarne l'eventuale sovrainfezione di carattere batterico allora quali sono gli obiettivi di oggi è quello di formulare un documento di consenso nazionale che accolga le linee guida internazionali sull'impiego del point of care nel territorio come test diagnostico utile alla lotta all'esistenza antibiotica soprattutto in vista dello stanziamento dei 9,6 miliardi del PNRR ma già oggi con la sua presenza all'interno delle farmacie e dei servizi che sono la prima sentinella all'interno del territorio diffonde la conoscenza presso tutti gli interlocutori di cure primarie quindi dagli infermieri medici di medicina generale pediatri di libera scelta e così via della possibilità di utilizzare l'accesso rapido al point of care attraverso le farmacie territoriale sentindo attualmente come ho detto maggiormente presento lo strumento per effettuare questo test e soprattutto perché come ho detto è uno strumento che è vicino al cittadino è uno strumento che è accessibile in maniera veloce al cittadino stesso in ottica di continuità dei cure qualora il paziente però dovesse richiedere ulteriori indagini approfondite deve comunque subentrare dagli diagnostici specializzati di laboratorio tra l'altro in corso è una proposta da parte del Sibio che è un sistema italiana per quanto riguarda la medicina di laboratorio per la diffusione a proposte di legge per la diffusione massima di questi point of care garantendo naturalmente la qualità del servizio offerto quindi un controllo sui test di qualità che sono fondamentali i punti di discussione che quindi che mi permetto di porre al panel ai relatori è qual è il ruolo della farmacia di servizio del farmacista nell'interfaccia con i clinici del territorio ad esempio appunto quindi la portellina cereattiva di cui stiamo parlando oggi qual è l'esperienza di utilizzo del test del point of care in farmacia e qual è l'utilità pratica riscontrata per ciò che riguarda i medici di medicina generale proposte di casistica che potrebbero richiedere la semplificazione del percorso diagnostico attraverso la rivelazione rapida di flogosi con il point of care per esempio la materia reumatica e autoimmuni e naturalmente come ho detto prima la potenziale infezione batterica da distinguere di un'infezione virale quindi se dare o non dare l'antibiotico e infine per i pediatri di libera scelta utilizzare il monitoraggio stretto attraverso i porti del paziente pediatrico con infezione batterica per la proprietà prescrittiva antibiotica e per l'efficacia naturalmente dell'azione degli antibiotici che sono stati prescritti io qui mi taccio e adesso subentreranno per quanto riguarda la moderazione il dottore Alessandro Malpelo che qui è il dottore Secca Nardiolo intanto chiedo all'onorevole Mandelli di fare il suo intervento io vi seguirò naturalmente nel corso di questo evento importante è uno dei primi eventi in cui parliamo praticamente in maniera chiara di quella che è diagnostica di possibilità in vista di quella che è il rilancio della medicina territoriale vi ringrazio a lei onore una Mandelli bene buon pomeriggio a tutti grazie dell'invito mi tratterrò qualche minuto ma purtroppo il ritmo dei lavori di oggi non mi consentirà di seguire fino alla vita e mi dispiace di questo ma non ho alternative grazie quindi dell'invito per questa riflessione che credo sia molto importante vorrei fare con voi un piccolo passo indietro non per perdere tempo ma per contestualizzare la situazione era la fine del 2020 e stavamo ragionando della legge di bilancio per il 2021 una legge di bilancio complessa eravamo in piena pandemia e avevamo una situazione davanti a noi molto complicata non c'erano i vaccini ancora si diceva che sarebbero arrivati per il famoso V-Day 27 dicembre ma fisicamente non avevamo ancora idea di quello che poteva e doveva essere e poi quello che in realtà è stato ecco in quella legge di bilancio in un momento difficile del paese drammatico per il paese io metto a punto tre emendamenti che trovano l'accoglimento del governo il primo emendamento è quello che ritenevo fondamentale proprio per affrontare in maniera precisa la pandemia la sfida che ci stava lanciando e la necessità di fondo di tracciare al massimo i cittadini italiani fosse necessario che le farmacie si mettessero in prima linea per fare i tamponi ed è stato il primo emendamento che il governo ha colto il secondo emendamento secondo linea di sviluppo che pensavo in quel fine 20 fosse necessario per affrontare la pandemia era quella che nel momento in cui i vaccini sarebbero stati disponibili io sapevo con i numeri della pianificazione che sarebbero stati disponibili sarebbe stato necessario una capacità di un coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale per una serie di ragioni che intuivo e che poi si sono dimestrate vere la prossimità la paura di andare negli hub anche il timore dei cittadini italiani in alcuni casi a sottoporsi alle vaccinazioni poi c'è una terza cosa che secondo me era necessaria per affrontare il futuro della professione a tutto favore dei cittadini che era quella di sdoganare l'azione del farmacista per quanto riguarda l'uso del pungidito che come sapete prima del mio terzo emendamento di cui vi sto parlando approvato in quella legge di bilancio era vietato al farmacista usare il pungidito per pungere il polpastrello del paziente che voleva sottoporsi a un test in farmacia ecco io ho pensato allora che proprio in virtù di quello che stava avvenendo delle grandi possibilità che la tecnologia stava mettendo a disposizione dei farmacisti fosse necessario far sì che il farmacista fosse attore di questa puntura e fosse quindi in grado di aprire una stagione nuova per la professione ecco io credo che queste tre mie intuizioni sono state fondamentali per disegnare la farmacia del futuro e per disegnare il ruolo del farmacista sul territorio in un momento in cui tutti abbiamo capito che la prossimità e l'investimento sulla prossimità è un fatto fondamentale ed è una grande opportunità per i cittadini italiani quindi è chiaro che mi trovo in piena sintonia quindi con questo progetto che dà corpo a una mia intuizione e dà una forma a quello che io intuivo e che invece ora diventa una possibilità reale di sviluppo di una prossimità diversa certo il tema che avete toccato voi è molto importante ed è importante quindi generare un consenso proprio per avere una capacità trainante sui farmacisti che sono sempre un po' particolari nel loro approccio all'innovazione non sono mai troppo contenti di buttarsi sulla strada nuova per poi invece essere travolti e trascinati con molto entusiasmo quando vedono il cambiamento che la loro attività propone e vedono sul sorriso delle persone con cui hanno rapporti in farmacia il risultato anche di soddisfazione professionale che derivano da queste attività nuove quindi è giusto generare un consenso ma è giusto anche ragionare di una grande opportunità rispetto ad un parametro così importante che ci darebbe la possibilità davvero e penso davvero al tema dell'antibiotico resistenza di dare una risposta importante io dal 2016 in Parlamento che scrivo mozioni anche approvate all'unanimità allora dal Senato e ora stiamo ragionando anche alla Camera di una mozione che focalizzi le preoccupazioni che esprimo sull'antibiotico resistenza le trasformi in un'azione reale della nostra sanità e del nostro atteggiamento verso l'uso degli antibiotici quindi è evidente che ancora una volta poter dare uno strumento per un farmacista protagonista a tutto vantaggio del cittadino nel combattere una cosa così drammatica che nel 2050 come qualcuno come il moderatore come il dottor Zanon diceva all'inizio sarà uno dei problemi più drammatici della seconda metà di questo secolo sia un momento importantissimo e quindi è un effetto importantissimo di una introduzione di un servizio così importante ma credo davvero che in questo momento serva quindi avere una capacità di coinvolgere il farmacista in questo cambiamento e di prenderlo per mano e portarlo in questo mondo nuovo questo mondo nuovo che stiamo organizzando col DM71 che vede sicuramente il farmacista italiano percepito non solo più e questo è un concetto che io facevo sempre un po' fatica prima a spiegare ma che invece adesso è molto più facile dopo la pandemia il farmacista ha sempre avuto un grande consenso da parte del cittadino chi non lo riconosce ognuno di noi dice ah i miei clienti mi stimano se vado se vado per strada faccio quattro passi nel mio quartiere non c'è una persona che non mi saluti con afflato ecco allora la percezione del farmacista da parte del cittadino non era la stessa percezione che il farmacista aveva da parte del decisione politico quello che è fortemente cambiato in questo anno è che a fronte al netto di una consapevolezza del ruolo che il cittadino ha della nostra professione che è stato amplificato con quello che abbiamo fatto in questo anno di straordinario di pazzesco i numeri sono davvero da far venire i brividi milioni di tamponi due milioni e mezzo di vaccinazioni anti covid fatte in farmacia due milioni e mezzo e non è ancora finita quindi sono numeri che fanno veramente girare la testa alla politica che capisce il potenziale di questa categoria ecco quello che è cambiato è questo passaggio da una percezione del cittadino alla percezione della politica il farmacista può fare qualcosa di straordinario per la collettività e quindi mi avvio a chiudere perché non voglio farvi un sermone questo cambiamento di mentalità deve darci una mano a ridisegnare col DM 71 anche come abbiamo fatto in queste giornate interloquendo molto con la conferenza sulle regioni come ho fatto io per far capire che le case di comunità non potevano avere un servizio di farmacia all'interno perché sarebbe stato contraddire il futuro della nostra professione sarebbe stato accentrare un servizio invece che parcellizzarlo sul territorio e quindi dobbiamo avere un rapporto con la politica che possa crescere ulteriormente ma nel potenziamento del DM 71 c'è un unico tema che secondo me va ancora messo a fuoco come mettere in sintonia le professioni sanitarie perché sul territorio possano fare rete e possano essere davvero lo snodo per far sì che la prossimità sia una maniera di declinare un concetto di assistenza invece che uno slogan con cui ci riempiamo un po' tutti la bocca cioè non basta dire potenziamo la prossimità senza fare una rete dei professionisti che facciano fattualmente le cose e senza far sì che tutto quello che può essere messo a sistema tra le figure professionali della salute possa diventare la maniera per dare un servizio ai cittadini approfittando anche di un fatto e mi fermo davvero che un'altra situazione che si è acclarata è che oramai parlare di spesa sanitaria non ha più senso perché oramai è finita spero davvero definitivamente la stagione dei tagli e si possa parlare di un investimento in salute nostra dei nostri figli un investimento che facciamo oggi per migliorare la qualità della vita di domani ecco questo è un po' i temi su cui volevo riflettere con voi e vi ringrazio molto per lo spazio che mi avete concesso buon lavoro a tutti siamo noi a ringraziare lei perché intanto ci ha dato uno spaccato a 360 gradi sia come ha detto ai lavori ma anche soprattutto con la visione di chi riesce a gestire queste cose adesso da un piano anche operativo a livello istituzionale ora io credo che il tema odierno sia interessante anche per un'altra scommessa che ci vede un po' tutti coinvolti cioè anche il fatto che persino il cittadino il paziente l'utente si trova comunque coinvolto perché tutti noi abbiamo avuto come pazienti tra le mani un referto di analisi tutti quanti abbiamo visto che più che meno qualche valore un po' fuori posto e questo in particolare della proteina reattiva è sempre un valore che compare appare scompare e diciamo così il profano non ha gli strumenti operativi per comprenderne il significato mentre invece sappiamo che ci sono dei significati reconditi che oggi vanno sicuramente indagati e a darci questa diciamo così prima visione da addetto ai lavori è un personaggio che conosciamo perché in questi due anni di Covid soprattutto lo abbiamo spesso e volentieri come si tirato per la piacchetta come si dice ma alludo al professor Francesco Menichetti che come presidente della studio artista antimicrobica oggi come oggi è più che mai coinvolto in questa discussione quindi Clara Nebbiolo ci presenta la relazione a seguire sì grazie mille Alessandro allora io passerei subito la parola al professor Francesco Menichetti presidente GISA per parlarci appunto del valore della CRP come indice di flogosi ad esempio per la proprietezza nell'uso degli antibiotici grazie mille professore grazie grazie a voi buon pomeriggio a tutti permettetemi di salutare l'onorevole Mandelli che ho avuto il piacere di conoscere personalmente condivido completamente la natura del suo intervento che mi pare assolutamente corretto e finalmente testimone limpido testimone chiaro di come a livello politico si è recepito l'importanza di una rete territoriale che sia finalmente armonica affinché possa essere efficace gli emendamenti a cui l'onorevole Mandelli faceva riferimento mi paiono puntuali impeccabili e i riferimenti al ruolo della farmacia territoriale veramente illuminati a fronte e l'onorevole Mandelli lo sa bene di distonie regionali ancora così rilevanti ancora noi fatichiamo per far praticare delle terapie antimicrobiche iniettive a domicilio del paziente ci sono resistenze sono resistenze organizzative anche resistenze da parte dei professionisti invece valorizzare quella rete territoriale oggi rappresentata dall'USCA dai medici di medicina generale dei terapie di base e dai farmacisti territoriali è la lezione del covid mi si consenta è voler affermare che questa grave pandemia ci ha insegnato a progredire è una grande occasione di progresso anche organizzativo di sviluppo organizzativo e la frase con cui l'onorevole Mandelli ha completato il suo intervento è illuminante non più spesa sanitaria come un aggravio come soldi buttati ma finalmente come un investimento in salute che può dare frutti fecondi se ben diretto e ben organizzato venendo al punto la proteina ciriattiva è sicuramente uno strumento un marker biochimico che l'internista l'infettivologo nella fattispecie conosce molto bene e che è direi forte proprio nella sua aspecificità faceva riferimento Zanon nella sua corretta introduzione che è un marker aspecifico di flogosi che non si riferisce specificamente a un fatto infettivo batterico virale o fungino o di altra essiologia ma più in generale la PCR può essere alterata da un fatto infiammatorio o anche da un fatto neoplastico o traumatico o di altra natura ma se noi concentriamo la nostra attenzione sull'ottimizzazione della terapia antimicrobica cioè su strumenti utili che ci permettono di guidare la terapia antimicrobica di meglio utilizzarla di valutare bene qual è l'impatto se c'è risposta oppure no da parte del paziente e quale soprattutto sia la sua durata ottimale ecco noi troviamo nella proteina C reattiva nella PCR uno strumento che oltre a essere semplice è estremamente utile e estremamente sensibile tutti voi conoscete è inutile citarli che i marker di flogosi come la velocità di erito sedimentazione il fibrinogeno l'alfa 2 globuline la ferritina esistono tanti marker più modernamente si conosce la procalcitonina che è un marker molto sensibile un marker infettivo morcosensibile e molto utilizzato ma è ovviamente nell'ambito e rimane nell'ambito ospedaliero in ambito non so come avendo anche un costo piuttosto rilevante e richiedendo un monitoraggio sistematico il valore puntiforme della procalcitonina non serve assolutamente a nulla bisogna costruire delle curve delle curve che se sono in decrescita ti possono dare informazioni utili ora la PCR e in particolare la PCR di prossimità point of care cioè la PCR che sia usufruibile anche al di fuori di strutture diagnostiche formali al di fuori dell'ospedale più specificamente in farmacia rappresenta sicuramente un valore aggiunto ai fini della guida della terapia antimicrobica che viene che venga prescritta ai nostri pazienti purtroppo c'è da sottolineare come sono proprio i medici quindi io faccio un mea culpa i primi a ignorare o meglio a non valorizzare fino in fondo a non apprezzare fino in fondo il valore della proteina C-reattiva basta vedere spesso le prescrizioni che i colleghi fanno e forse abbiamo avuto un attimo di ritardo sul segnale di professor Menichetti mentre stiamo verificando se riusciamo a ristabilire l'audio ne approfitto per dire che con noi collegato c'è Francesco Buono segretario organizzativo a Roma della FEMG buonasera a tutti che ci segue che ci segue perché nella duplice veste di relatore ma anche ma anche di moderatore della tavola rotonda che fra poco andiamo andiamo ad avviare ma se mi date qualche minuto in attesa di dare il via al prossimo collegamento e senza richiamare in ballo Andrea Mandelli che ha degli impegni oggettivi e quindi che lasciamo libero di seguire il suo etero istituzionale però io proprio di Andrea Mandelli un ringraziamento come il giornalista scientifico lo vorrei dare perché attraverso la federazione degli ordini dei farmacisti italiani sono stati dati anche in queste ultime settimane notevoli diciamo così spunti di riflessione ne cito due il 10 marzo una presa di posizione in cui a caldo sui dati diffusi dall'AIFA sul consumo degli antibiotici in Italia che confermavano che siamo uno dei paesi che ne impiega le maggiori quantità ecco che Andrea Mandelli ha dato una presa di posizione in cui ha richiamato le motivazioni e gli indirizzi per un impiego razionale di questi farmaci e ha coinvolto il mondo dei media in questa comunicazione e sempre nell'ambito delle attività di Andrea Mandelli devo citare anche un percorso condiviso tra farmacisti e infermieri per realizzare l'assistenza di prossimità e questa è un'altra presa di posizione ancora più recente del 18 marzo allora a questo punto Francesco Menichetti ha ripristinato il collegamento quindi noi gli chiediamo di accendere il microfono e di riprendere dal punto dove c'eravamo lasciati prego e lo scusa c'è stata una defaianza del inattesa del del wifi stavo dicendo la PCR ci guida ci guida nella terapia antimicrobica perché laddove ci sia un calo della PCR che noi troviamo elevata in un fatto infettivo che sia documentato microbiologicamente o anche non documentato microbiologicamente ma accertato comunque clinicamente ecco se la PCR declina dopo l'adozione di una terapia antibiotica e può essere quindi mirata ma può essere anche empirica in mancanza della documentazione microbiologica ecco noi abbiamo una prova di risposta di buona risposta e quindi di adeguatezza della terapia antimicrobica laddove la PCR si normalizzi e rimanga normale noi abbiamo un'ulteriore indicazione che vuol dire che la terapia antibiotica che noi abbiamo prescritto è bastevole è sufficiente la durata della terapia antimicrobica può quindi essere contenuta non più quei cicli interminabili di antibiotici ma invece cicli limitati nel tempo di documentata efficacia che impattano meno sulla flora microbica intestinale e quindi favoriscono meno l'emergenza della resistenza antimicrobica laddove invece la PCR non cali e allora quello è un segno che può ossificare da una parte un'errata di agnosi quindi abbiamo pensato che fosse un fatto infettivo abbiamo dato una terapia antibiotica l'antibiotico non risponde ma perché non va bene l'antibiotico perché magari quell'incremento della PCR soprattutto se l'antibiotico è empirico significa che il malato ha un'altra cosa quindi ha un segnale d'allarme importante in senso diagnostico riferenziale oppure può suggerire che la scelta dell'antimicrobico sia stata inadeguata infine la PCR che era normalizzata può di nuovo risalire questo capita spesso quando abbiamo a che fare con infezioni subacute o croniche associate ad esempio ai dispositivi protesici tutti voi che mi ascoltate sapete bene come le infezioni associate a protesi soprattutto faccio l'esempio delle protesi ortopediche che è quello più noto siano difficilmente emendabili con la sola terapia antimicrobica e richiedono la bonifica del focolaio che è chirurgica ecco quindi come la proteina C reattiva in buona sostanza rappresenta già oggi uno strumento che io direi di estrema utilità se è gestito correttamente dal clinico e avere a disposizione una PCR di prossimità così come è stata definita coinvolge altre figure al di là di quelle specialistiche e se mi permettete mettere le condizioni anche i colleghi che operano su territorio a gestire in modo più sicuro e più fiducioso la terapia antimicrobica ecco questo sempre scusandomi dell'interruzione è il mio contributo che spero possa essere utile per il dibattito che poi seguirà grazie grazie intanto al professor Menichetti se non ci lascia se rimane con noi lo ringraziamo prima di darti la parola volevo dare due informazioni tecniche una per quanto riguarda la sequenza della nostra discussione abbiamo un panel di partecipanti a questo tavolo di discussione sono tutti presenti e collegati seguiremo un ordine l'ordine che è stato diciamo così descritto nel programma se ci dovesse essere qualche esigenza di qualche relatore di anticipare ce lo faccia sapere ai nostri ai nostri numeri diversamente poi quando i nostri partecipanti hanno tenuto la loro intervento se hanno degli impegni sono diciamo così possono anche staccarsi visto che tutti sono impegnati anche per motivi professionali e prima di fare dare al Francesco Buono la possibilità di dare un primo cappello introduttivo volevo darti la parola così ci ragguagli anche se le ultime questioni tecniche della audience sì infatti grazie mille Alessandro le informazioni che volevo dare che ci stanno seguendo attualmente 177 persone su Facebook e 157 su Zoom quindi direi che è un argomento molto sentito e quindi direi di passare subito la parola al dottor Buono segretario organizzativo FIMG Roma per dare inizio alla tavola rotonda dal titolo innovazione della diagnostica di primo livello e CRP prego dottor Buono grazie mille di essere qua con noi grazie a voi per l'invito grazie ai partecipanti e grazie al dottor Alessandro Marpello che mi ha presentato prima e quindi dato l'importanza dell'argomento entro subito diciamo nel vivo parliamo appunto di progetto CRP nell'ambito di quella che è la nuova politica che tutti siamo chiamati nei rispetti dei reciproci ruoli professionali ad assolvere che è quella lì di una assistenza territoriale di prossimità che sia quanto mai orientata alla risoluzione dei problemi dei problemi che vediamo quotidianamente nell'utenza che a noi si rivolge nella favorire l'appropriatezza prescrittiva di cui da tanti anni stiamo parlando ma che può avvalersi grazie ai progressi uno dei quali appunto è oggetto del nostro incontro che nel corso del tempo vanno ponendosi a nostra disposizione io direi anche di aggiungere il valore aggiunto dell'aderenza perché è normale che quanto più si concentra nell'unità di tempo quello che può essere un momento diagnostico nei confronti del paziente meno questo paziente almeno laddove possibile viene mandato in giro a fare accertamenti per poi rientrare e quanto più si rischia di perderlo un po' per strada e quindi magari viene meno quella salienza che invece l'utilizzo di alcune strumentazioni point of care sicuramente ci dà certamente è un lavoro di squadra certamente e con soddisfazione prendo atto dei progressi anche dell'attività del volume di attività che è stata svolta e che ci è stata esaurientemente presentata per quanto riguarda le farmacie mi permetto di considerare come anche gli studi dei medici di famiglia assegnatamente quelli che ormai sono la maggioranza e cioè quelli che sono in associazione in sede unica ha fatto e sta facendo la propria parte ci sono anche noi dei numeri che dobbiamo considerare abbiamo avuto soltanto in una regione italiana la regione in cui io mi trovo nella passata stagione un milione e trecentomila vaccinazioni antinfluenzali sicuramente un numero importante quest'anno siamo leggermente ma proprio molto leggermente al di sotto ma le cifre sono quelle e questo dimostra un interesse sempre maggiore per far sì che al di là di quella che è una figura tradizionale che deve continuare a essere possa aggiungersi a quello che è il ruolo clinico il ruolo dell'inquadramento preciso di quella che è una patologia nell'ambito di conferme quali quelle che ci sono state illuminantemente esposte da professore Melichetti quindi la possibilità di seguire le patologie croniche di poter capire i momenti di riaccensione di poter in qualche modo poter da subito indirizzare la terapia giusta per il nostro paziente quindi benvengano tutte quante le sinergie sinergie che fanno sì che l'offerta possa essere adeguatamente fornita sul territorio siamo in un momento di trasformazione ricordiamoci che nei momenti di trasformazione una rete presente ed efficace qual è quella degli studi capillari dei medici di famiglia similmente a quello che è la rete delle stazioni dei carabinieri per parlare di altro ambiente per parlare quindi in questo caso di ordine pubblico possono essere nello stesso tempo strutture e figure tradizionali disseminate sul territorio e capillari e nello stesso tempo presentare quella modernizzazione che fa sì che l'ingresso di queste nuove tecnologie possa cadere in un contesto clinico appropriato possa soprattutto venire incontro a quelli che sono i reali attori della vicenda sanità che poi sono i cittadini pazienti grazie per avermi concesso questo tempo grazie mille a lei allora Alessandro se sei d'accordo io inizierei appunto a dare la parola a Emanuela Bandi vicepresidente associazione chimica farmaceutica lombarda fra titolari di farmacia va bene e dopo e dopo Manuela Bandi vedo in programma Elena Cozzola esatto segretaria nazionale della società di pediatria bene allora Manuela eccoci qua eccoci qua buongiorno a tutti e benvenuti abbiamo abbiamo ampiamente parlato in questi in questi interventi dell'importanza di lavorare in sinergia credo che questo sia il vero insegnamento che ci arriva dal covid per dirla proprio tutta in questa situazione io credo sia apparso abbastanza evidente come il meglio delle forze di ognuno di noi da solo non sia stato sufficiente ha funzionato il sistema dove si è riuscito a lavorare in cooperazione dove si è riuscito a parlare un unico linguaggio e a scambiarsi e a toglierci reciprocamente quei pezzettini di lavoro che facessero sì che il cittadino che il paziente che alla fine la persona avesse una risposta io credo che in questo la farmacia sia stata molto attiva e credo che lo fosse prima dell'emergenza pandemica e credo che all'interno dell'emergenza come ha detto l'onorevole Mandelli sia emerso il meglio che si poteva dare si è emerso in maniera molto evidente si è emerso a tutti i livelli il cittadino ha sempre trovato nella farmacia la famosa porta aperta per la prima risposta per il primo quesito anche per indirizzare ai livelli decisamente superiori di sanità ecco la farmacia e la farmacia dei servizi sta esattamente potenziando questo questo aspetto sta cercando di dare le migliori risposte possibili io credo che la farmacia si stia dotando e sia già in gran parte dotata di strumenti veramente efficaci per poter dare queste risposte per poter collaborare non posso nascondere che in passato le risposte che arrivavano dalla farmacia non sono sempre state apprezzate dai medici cosa che non è successa negli ultimi negli ultimi due anni evidentemente ecco a me piacerebbe che l'insegnamento di questo periodo così complicato fosse proprio questo possiamo parlare la stessa lingua possiamo muoverci in un ambito che vada esattamente nell'ottica di essere il più efficace possibile ovviamente nel rispetto delle reciproche professionalità ma sempre tenendo presente il cittadino alla fine in regione Lombardia dove io opero le attività che sono gestite dalle singole farmacie sono anche molto facilmente riconoscibili perché tramite una banalissima app è possibile in ogni momento sapere quale farmacia è disponibile quale servizio è presente all'interno delle singole farmacie in molti di noi è possibile anche direttamente prenotare tramite questi sistemi quindi dove serve un'analisi di primi stanza dove serve una risposta anche molto rapida le farmacie ci sono ci sono per poter dare il massimo del loro contributo ci sono per poter essere accanto da una parte al cittadino e dall'altra al medico che potrebbe trovare sicuramente una serie di risposte rapide per rendere il proprio lavoro ancora più efficace quello che può essere per la farmacia io sono sicura che la farmacia riuscirà a rispondere al meglio grazie grazie davvero per aver sentito il tuo parere vedo che ha la videocamera accesa collegata Elena Ozola segretaria nazionale della società italiana di pediatria è appena il caso che noi ricordiamo della della dottoressa della professoressa che ha un'intensa attività di autore e di letteratura scientifica e tra le tante collaborazioni editoriali che potrei citare vi permettetemi di citare l'ultimo numero della rivista della società italiana di pediatria alludo al numero in cui lei ha pubblicato un assieme con un articolo assieme a Luisa Galli un interessante un'interessante review scientifica proprio sulla antimicrobico resistenza e direi che siamo proprio siamo sul tema perché ci siamo ci siamo qua siamo qui proprio per discutere di questi aspetti prego 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 alla dottoressa Elena Bozzola la parola della sua esperienza grazie a tutti scusatemi avevo un problema con la telecamera poco fa come appunto avete ricordato il tema dell'antimicrobico resistenza è un tema caro a tutta la pediatria ed è il motivo per cui abbiamo appunto dedicato una parte della nostra rivista proprio per sottolineare come il problema dell'antimicrobico resistenza sia divenuto negli ultimi anni da sempre esiste ma sia venuto negli ultimi anni soprattutto importante ed è del resto un allarme che non lanciamo noi solo come società italiana di pediatria ma che è stato appunto lanciato dall'Anset recentemente proprio a gennaio 2022 in cui parlava di circa 5 milioni di morti nel 2019 in molta parte dei quali associate proprio ad infezioni causate dagli batteri multiresistenti per cui il rischio addirittura che si poneva era quello di arrivare fino a 10 milioni di morti entro il 2050 sono delle cifre certo che sono molto importanti che non dobbiamo consegnare ai nostri figli ai nostri nipoti un mondo così un mondo in cui il rischio di morire a causa delle infezioni nonostante gli avanzamenti nella terapia antibiotica sia un rischio reale ed un rischio sempre più importante ed un ruolo importante lo svolge il pediatra vi direte perché nella maggior parte delle infezioni importanti si parla soprattutto di adulti di anziani però anche nel mondo pediatrico il rischio è quello di contribuire all'antimicrobico resistenza come già accennato tantissimi anni fa se parla più di 20 anni fa da un articolo molto famoso di Pediatrics di un gruppo di studiosi inglesi che ha evidenziato come dagli ambulatori dei pediatri famiglia uscissero delle mamme intervistate le quali si definivano insoddisfatte se il proprio pediatra non prescriveva un antibiotico e in alcuni dei casi circa un quarto dei casi erano disposti a farsi delle autoperscrizioni in farmacia o a cambiare addirittura a pediatra ecco da qui l'importanza appunto di attenzionare attenzionare il fenomeno della prescrizione delle terapie di prescrizione degli antibiotici e in questo svolge un ruolo ancora più importante la possibilità oltre della nostra clinica perché ricordiamoci in primi se noi siamo medici quindi è importante visitare il paziente capire che cosa sfidarci appunto delle nostre capacità di visitarlo di ascoltare il terroce il traccio di sentire la pancia di guardare le orecchie di vedere la gola ma a volte ci può essere proprio un ausilio importante che è quello della diagnostica diagnostica non solo strumentale ma anche di laboratorio per cui la possibilità di ricorrere a degli esami climatici tipi EPICER POCT che ci danno dei risultati in tempi brevi che ci possono orientare anche le nostre scelte terapeutiche sarebbe l'ideale per avere dei bambini più sani delle famiglie più serene più tranquille e anche per noi proprio per poter fare delle prescrizioni mediche sicure sicure nel senso di essere sicure di fare quello che il nostro potere è il meglio per il bambino direi che è chiaro come inquadramento e sicuramente l'attenzione nel mondo della pediatria è rilevante e cos'altro dire io andrei avanti nella nostra carrellata perché secondo me riusciamo a fare se permetto un attimo solo infatti diamo a Francesco Buono la possibilità ogni tanto di intervallare con dei commenti o delle chiose Francesco molto apprezzato la relazione della dottoressa Bozzola perché mi ha fatto immediatamente ricordare un'immagine dei primi anni dei miei studi di medicina una scritta che compare all'università degli studi di Roma dove mi sono lavorato e che è impuero omo e quindi quando sento parlare di questa appropriatezza di questa attenzione fin dall'età più tenere a quelle che poi potrebbero diventare i problemi dell'adulto che poi in genere si parla di antibiotico resistenza soprattutto nell'adulto ma il percorso può iniziare molto da prima e quindi l'importanza del ruolo dei pediatri in questo del passaggio di consegne che anche questa è una cosa che a livello territoriale dovremo in qualche modo implementare nel futuro è senza altro fondamentale un accenno anche alla relazione della dottoressa Bandi ha accennato a un certo punto al fatto che nel passato è capitato qualche volta che alcuni servizi della farmacia potessero non essere considerati questo è avvenuto e avviene sempre quando si introducono delle novità posso dire che fa un po' pandanna anche con alcune mancate conoscenze che ci sono in molte realtà locali di quelli che sono anche dei servizi che la medicina generale ultimamente ha offerto nella mia regione per esempio non tutti sanno che ci sono ambulatori delle cure primarie che lavorano nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 19 e dove parimenti si può parlare di rete integrata quindi delle volte queste cose possono accadere perché magari vengono costruite vengono poste in essere con il sacrificio di molti magari non vengono adeguatamente pubblicizzate quindi alla fine non sono quel patrimonio di tutti che è uno dei target del lavoro che stiamo portando avanti grazie grazie mille dottor Buono allora io passerei per esigenze di tempo la parola al dottor Procaccini vicepresidente vicario di Federfarma che ringrazio di essere qua con noi nel mentre stanno crescendo notevolmente gli ascolti su Zoom e Facebook quindi dopo l'intervento del dottor Procaccini vi diciamo raguaglieremo anche su questo prego buongiorno a tutti grazie di avermi invitato per questa importante sessione di lavoro diciamo che sì stiamo un po' anche analizzando non solo la proteine acerattiva ma un po' quello che è accaduto in questi due anni cercando di capire ma ne parliamo già tante volte ma insomma una volta in più non fa male cosa è accaduto è accaduto che sicuramente i servizi di capillarità mi sentite sì i servizi di capillarità intesi come appunto i studi di medicina generale i pediatri di libera scelta e le farmacie hanno saputo darci un'importanza particolare in questo in questi tragici due anni no? Sviluppando poi anche attività che precedentemente erano sicuramente caratteristiche delle grandi strutture ospedaliere proprio per cercare di incontrare cittadini sul territorio il più possibile vicino a casa sicuramente lo spartiacco come ha detto il dottor Mandelli nel suo prologo è stato la legge di bilancio 20-21 per quanto riguarda le farmacie ovviamente perché quella un po' ipocrisia se vogliamo dire dell'autoanalisi è stata sdoganata definitivamente con una effettiva poi azione da parte del farmacista per il prevedere un sacco di capillare che ha aperto le strade a tutta una serie di diagnostiche importanti che prima non si facevano ma che ora trovano appunto riscontro all'interno delle farmacie quindi anche un cittadino anche curioso magari va in farmacia e chiede che cosa si fa in questo momento sicuramente trova in questa farmacia così cambiata così evoluta che è rimasta a tempo stesso la farmacia di prima ma nel contempo è diventata una farmacia di servizi sempre più vicino al cittadino trova quindi che può farsi tranquillamente un PSA piuttosto che un'analisi della vitamina D e quindi anche con la strumentistica adatta chiaramente valutare la proteina C reattiva che abbiamo capito appunto di essere scientifico che importanza possa avere quindi una farmacia ripeto diversa ma uguale a se stessa il cittadino devo dire che sta diventando diciamo dal 2001 purtroppo siamo passati ad essere da paziente al capitolo di spesa questa è stata poi la grande sbotta della 405 del 2001 i cui effetti si sono avuti e visti poi nel corso del decennio successivo però stiamo tornando ad un cittadino paziente un cittadino qui non solo capitolo di spesa paziente intorno al quale si deve costruire una rete di solidarietà ma anche capillare vicino al cittadino stesso sicuramente le case comunità un pochino si allontanano da questo principio però se saranno se faranno parte di quella rete strutturale sul territorio insieme appunto ai medici medicina generale pediatri di prima scelta le farmacie anche le case comunitarie riusciranno a dare quella risposta integrata però sul territorio quindi questo è un elemento fondamentale in questo momento che cosa è accaduto sì effettivamente ecco ripeto ci si rende conto di quello che le farmacie sono adesso perché tra l'altro e questo bisogna dirle bisogna dirlo per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nazionale è chiaro che i farmaci che in questo momento si danno in farmacia tranne per la dpc sono farmaci un pochino meno moderni i farmaci innovativi i farmaci nuovi sono farmaci che noi vediamo distribuiti direttamente però un pensiero per esempio sul nuovo antivirale per il covid abbiamo visto c'è l'articolo anche l'altro giorno così un po' borderline se vogliamo però abbiamo capito che serve una risposta immediata quindi se noi dobbiamo attivare per prendere il farmaco di anticovid il protocollo ospedale e quant'altro passano cinque giorni e non serve più quindi una come dire utilizziamo al meglio le farmacie sul territorio utilizziamole ancora di più perché la loro presenza è fondamentale e soprattutto è una presenza al quale il cittadino dà ancora tantissima fiducia c'è un paradosso in questo se vogliamo cioè mediamente il cittadino una cosa sono le farmacie che sono anche criticabili però il paradosso è che il cittadino non critica mai la sua farmacia o meglio critica magari il mondo per qualche motivo poi economico poi per altri motivi però non gli toccare il suo farmacista che poi è andato lì a Natale è andato lì a Capodanno ha trovato il scontro e ha trovato tutte quelle assistenze necessarie quindi una porta sempre aperta in ogni momento dell'anno quindi dobbiamo sfruttare sempre di più questa rete aumentare la presenza sicuramente del farmaco in farmacia ma non dimenticarsi che ormai sono stati definitivamente sdoganati tutti quei servizi e la farmacia è diventata una farmacia ambivalente sia dal punto di vista del sanitario per quanto del farmaco ma anche l'utilizzo dei servizi sul territorio quindi è cambiata ci crediamo abbiamo vissuto questo cambiamento e lo abbiamo anche cavalcato perché il farmacista si è adattato nel frattempo con la formazione con la vicinanza al cittadino ma soprattutto con la volontà di evolversi in un mondo che sta cambiando e che è diventato veramente un mondo diverso molto rapidamente a causa della pandemia quindi benvengano ulteriori diagnostiche come questa appunto la proteine aciliattiva ma parliamo anche di diagnostiche di diverso tipo che aiutino sicuramente il cittadino a vivere una vita migliore in un sistema sanitario integrato che lo faccia sentire sempre più parte del sistema grazie grazie mille a lei allora passerei subito la parola alla dottoressa Rongai segretario FIMP Lazio e poi anche per delineare un po' il percorso successivamente passeremo la parola a Francesco Lapi direttore ricerca health research della Simge e in seguito al dottor Walter Marroco responsabile scientifico FIMG giusto così si possono preparare ci sono due punti dei topics a programma molto importanti che discutevamo qua fuori onda che secondo me sui quali adesso si può focalizzare la discussione che sono semplificare il percorso diagnostico e implementare la proprietà prescrittiva e l'utilità clinica ed opportunità per un uso appropriato delle risorse per il prescrittore sia dal punto di vista del pediatra di libera scelta che del medico e di medicina generale quindi io chiederei alla appunto dottoressa Rongai di fare la sua relazione grazie mille deve attivare l'audio mi sentite? buongiorno buongiorno a voi ringrazio per questo interessantissimo webinar che avete organizzato e ringrazio i relatori anche che mi hanno preceduto perché hanno detto tante cose che io condivido e che avrei voluto dire anch'io comunque come segretario delle federazioni italiane a medici pediatri quindi dei pediatri di libera scelta di Roma e del Lazio posso dire che noi già dal 2008 abbiamo cominciato con la regione proprio con la regione Lazio a individuare quali erano i nostri problemi sulla proprietezza prescrittiva perché non l'anno scorso quando ci sono stati dei dati appunto AIFA sulla diminuzione della prescrizione degli antibiotici a causa Covid ma in precedenza avevamo purtroppo nella fascia di età compresa fra 0 e 4 anni un aumento delle prescrizioni antibiotiche quindi in pediatria territoriale si sono svolti già dei lavori in alcune province dove si è appunto fatta una formazione un'informazione anche alle famiglie perché dobbiamo anche dire questo che molte volte la prescrizione antibiotica va al di là della prescrizione del medico perché c'è l'automedicazione quindi su questo abbiamo fatto un po' di formazione anche presso le famiglie perché ci rendevamo conto che anche se il pediatra in libera scelta non prescriveva l'antibiotico molto spesso il bambino però lo acquisiva quindi uno dei campi su cui abbiamo agito è questo ma non è stato sufficiente quindi adesso con diciamo dopo l'emergenza Covid ripartiremo con la formazione anche dei pediatri di libera scelta sull'appropriatezza prescrittiva perché il Covid ha messo in evidenza quello che volevamo nel senso che il pediatri di libera scelta adesso si è trovato di fronte ad una diagnostica ambulatoriale più presente anche noi pediatrici siamo diciamo come la medicina generale abbiamo effettuato oltre alle vaccinazioni antifluenziali come ricordava il collega della Finge anche i tamponi per il coronavirus che noi abbiamo fatto a studio e abbiamo visto che il genitore è contento di concludere l'iter diagnostico presso l'ambulatorio periodo di libera scelta quindi e questo porterà anche a noi la possibilità di effettuare la PCR alcuni colleghi già lo fanno quelli che sono in gruppo i pediatri singoli purtroppo hanno grosse difficoltà perché non riescono a diciamo organizzare il proprio studio con un'attività diagnostica solo se è presente un solo professionista in questo camp in questa problematica la regione Lazio ci ha dato l'opportunità di acquisire personale infermeristico nella nostra regione dove diciamo che sarà impegnato in un aiuto di diagnostica ambulatoriale che noi ci propriremo di fare da adesso in poi e questo è l'esempio della della PCR viene proprio cade proprio a fagiolo come si dice perché sappiamo che le patologie acute le quali rappresentano circa il 70 80% di ingresso presso i nostri studi sono prevalentemente di tipo virale e quindi più delle volte abbiamo la necessità di individuare se la patologia è batterica o virale e per evitare appunto una prescrizione non adeguata su questo l'indagine sul PCR appunto ci porta a un uso ragionato della prescrizione degli antibiotici perché nel bambino la prima cosa è non nuocere quindi non evitare di dare antibiotici se non ce n'è bisogno quindi su questo noi abbiamo già diciamo tutte le intenzioni per poter fare questo ci sta aiutando anche la regione Lazio dandoci appunto la possibilità di poterlo fare come diceva il collega della medicina generale che anche noi pediatri svolgiamo il sabato e la domenica come la medicina generale la continuità del nostro ambulatorio presso le case della salute e questo ci apre anche la strada per poter fare una diagnosi di primo livello anche per questi centri quindi benvenga tutto questo siamo disponibili a tutto speriamo anche se pochi perché noi pediatri purtroppo stiamo subendo una brusca diminuzione sul territorio perché ci sono molti colleghi che vanno in pensione pochi pediatri che stanno ci stanno sostituendo però diciamo cerchiamo di adesso di fare un lavoro di equip di associazione di gruppo affinché ci sia questa diciamo possibilità di diagnostica per migliorare la cura e l'assistenza nel bambino grazie a tutti grazie sempre in tema di pediatria prima di proseguire in questa nostra carrellata mi sembrerebbe opportuno allora citare per esperienza personale di vita vissuta in redazione quindi come giornalista di citare anche Susanna Esposito che tutti voi conoscete professore ordinario di pediatria e anche presidente del sodalizio scientifico che proprio nel campo delle malattie infettive è particolarmente versato bene proprio proprio un ricordo personale è di prima del covid una conferenza stampa che è stata fatta proprio sulla lotta all'abuso di antibiotici di nuovo test diagnostico per distinguere le infezioni batteriche da quelle virali ma mi sembra che il punto sul quale giriamo attorno al quale giriamo è un po' quello come ha detto bene prima Francesco Buomo è proprio la conoscenza dell'opportunità ecco che troviamo in farmacia e questo potrebbe essere un fattore fare leva anche nel diciamo così nell'immaginario del medico nel poter cogliere questa come opportunità non come dovere e quindi di utilizzare degli strumenti di appropriatezza clinica se ho ben compreso quello che Francesco Buono voleva voleva dire prima prego sì sì effettivamente la conoscenza reciproca di tutto quello che questo team di professionisti che si occupa di salute può dare senza altro opera molto molto importante io ricordo delle volte ho visto dei mezzi di trasporto con delle diciamo dei ricordi di date di situazioni di opportunità magari ogni tanto mi farebbe piacere vedere uno di questi autobus che dicesse esistono dei servizi sul territorio anche il sabato e la domenica forse non ci farebbero male un solo cenno per dire mi ha fatto molto piacere le parole del dottor Procaccini quando si è accennato al cittadino non solo come capitolo di spesa perché il superamento di questa mentalità è senz'altro quella che può fare del bene a tutti quanti noi sulle case di comunità per chiarità è un'opportunità che esiste non commettiamo però l'errore di sostituire a un centro un altro centro perché se noi il territorio esiste in quanto è l'altra metà del cielo è quello che vede in quella che viene definita la real life la vita reale di tutti i giorni i cittadini per carità esiste questa opportunità spero che venga data la giusta funzione la giusta funzione e concordo con chi ci ha ricordato che non è quella di accentrare dei servizi si può avere altri tipi di funzione sicuramente non si butta assolutamente nulla di ciò che di nuovo viene diciamo inserito nel panorama sanitario però ecco ricordiamoci che la periferia perché continui ad avere un suo valore quindi la periferia rappresentata dalle farmacie rappresentata dai medici di famiglia dei pediatri di libera scelta sicuramente è un valore da mantenere certamente questo sì grazie mille dottor Buono allora come preannunciato passerei la parola a Francesco al dottor Francesco Lapi direttore ricerca health search della SING sì salve buonasera a tutti dunque innanzitutto grazie per l'invito allora io il mio contributo si basa essenzialmente su quella che è l'esperienza che il nostro centro di ricerca ha fatto e sta facendo proprio sulla CRP perché viene vissuto chiaramente come un elemento carente nell'atteggiamento prescrittivo che può guidare alla corretta prescrizione dei antibiotici da parte del medico di medicina generale e carente però perché certamente c'è un elemento ancora culturale che deve essere colmato nonostante ovviamente questo tipo di valutazione strumentale sia nota ma non è ancora sufficientemente nota e tuttavia però c'è anche un elemento pragmatico perché e questo si ricollega a quello che hanno detto prima gli altri colleghi nel senso che il medico di famiglia ha una eterogeneità di azione e questo io lo dico vedendo i dati che noi con il nostro database nazionale analizziamo frequentissimamente per tutta una serie di progetti inclusi quelli che adesso si stanno occupando di CRP e di prescrizione antibiotica e su cui poi dopo vorrei fare un esempio proprio per essere più chiaro e quella che è la continuità con l'attività della farmacia del territorio perché l'ambulatorio di medicina generale vive un'estrema eterogeneità c'è il medico che lavora il dottor Buono lo sa meglio di me il medico che lavora ovviamente senza una medicina di gruppo il medico che lavora con una medicina di gruppo e quindi con la presenza di un infermiere e di altri colleghi nei quali un esame di prossimità chiaramente molto più applicabile molto più utilizzabile rispetto al medico che lavorando in solitaria passatevi in termini che è un po' forte ma è molto chiarificatore ha molta più difficoltà anche dividendosi in diversi ambulatori anche a utilizzare una diagnostica POC disponibile ecco nel proprio ambulatorio però perché è una difficoltà pratica quando prescrive la CRP e quindi attende i risultati dal laboratorio della propria ASL il problema è che questo è un esame che richiede tempi di risposta molto rapidi perché la decisione nel prescrivere un antibiotico non è una terapia cronica è una terapia a breve termine che deve essere decisa nell'immediato quindi le ore possono essere cruciali addirittura ai minuti si può dire quindi questo diciamo è un impedimento peraltro c'è anche un altro elemento in questo senso che di nuovo c'è un panorama molto eterogeneo alcune ASL hanno informatizzato un sistema di risposta di valutazione della CRP che il dottor Buon e i suoi colleghi magari lo vedono entro poche ore sul proprio terminale altri invece devono aspettare ore e ore per vederlo forse giorni e a quel punto i risultati non ha più senso di esistere sostanzialmente la logica è che con il nostro database noi abbiamo provato a capire recentemente come poter mettere in evidenza dei dati che possono aiutare a fare da un lato formazione e che possono quindi poi stimolare il medico di famiglia a prescrivere maggiormente questa valutazione previa ovviamente prescrizione dell'antibiotico per decidere sulla terapia antibiotica anche conscio del fatto che esiste la possibilità di fare questo tipo di valutazione nelle farmacie territoriali laddove magari il medico di famiglia non abbia un'immediata risposta che derivi dal proprio diretto ambulatorio quello che abbiamo visto è che noi sapete che partecipiamo tutti gli anni con il rapporto OSME da una sezione specifica di appropriatezza prescrittiva abbiamo già quantificato che per le alte vie respiratorie ecco l'esempio che volevo fare dove c'è maggiore criticità di inappropriatezza prescrittiva le infezioni delle alte vie respiratorie se si parla semplicemente di influenza o di sindrome parainfluenzari vedono nei nostri dati facendo la politica fino a un 30% di prescrizione di antibiotico diretta a quel tipo di problema che quindi sappiamo essere un indice di inappropriatezza molto evidente dove una delle soluzioni ovviamente soprattutto sulle alte vie respiratorie è quella di fare prima una valutazione con CRP ad esempio quello che abbiamo fatto recentemente proprio con uno studio che adesso è in fase di pubblicazione dove noi abbiamo visto che dove chiaramente la CRP è utilizzata c'è una maggiore attenzione a prescrivere o meno l'antibiotico quindi c'è una maggiore appropriatezza il problema è che è utilizzata molto poco ossia utilizzata solo nel 2-3% dei casi quindi che cosa vuol dire che si hanno per le alte vie respiratorie la decisione di prescrivere un antibiotico su base empirica con un margine di rischio molto elevato e quindi di chiaramente spingere sulle resistenze che raggiunge fino al 70-80% quindi questo è diciamo l'elemento che ha una maggiore criticità dato che sicuramente questo è un ambito clinico scientifico su cui si può migliorare la preparatezza prescrittiva questi dati ci dicono che se diamo al medico la possibilità di avere un esame di prossimità che possa essere fatto eseguito all'interno dei propri ambulatori dove è possibile o nelle farmacie territoriali vicine dove c'è questa disponibilità quello potrebbe essere un elemento determinante per contribuire a ridurre sensibilmente la spinta sulla resistenza antibiotica insomma direi che stiamo cominciando a disegnare diciamo così attraverso una serie di pennellate un perimetro interessante allora questo questo convegno adesso dopo ci date i dati aggiornati dei congressisti collegati direi comunque che qual è la funzione è anche una funzione divulgativa quella di questi di un incontro come questo perché poi attraverso la call to action le conclusioni il documento di sintesi poi queste diciamo così osservazioni che scatturiscono da questo confronto tra esperti di veramente di grande spessore poi vengono fatte circolare diventano anche di dominio pubblico e arrivano al grande pubblico che è quello poi che può fare la differenza tra le nostre le nostre disquisizioni e quella che può essere una pratica dico pratica perché il medico pratico è sicuramente il diciamo così il uno dei perni di questo di questo gioco di questa di questa dinamica medico pratico assieme al farmacista e Francesco Buono è proprio il medico pratico per eccellenza è la persona che per scelta da un contesto ospedaliero ha accettato di diciamo così di di completare la sua il suo percorso professionale la sua carriera diciamo così incarnando la figura che c'è sempre stata nel nostro passato del medico che risolve i problemi che affronta i problemi che li semplifica e che ha una visione di insieme allora faccio io una domanda a Francesco Buono prima di e gli chiedo una breve risposta ecco in un'ottica di questo tipo dopo sentiremo se è ancora collegato anche Francesco Manichetti alla fine di questo giro ecco diciamo così nella pratica qual è l'ostacolo maggiore a far sì che si facciano dei passi avanti concreti nell'appropriatezza dottore ma da un lato quelli che sono gli esiti di quella grande rivoluzione che fu l'antibiotico terapia perché ricordiamo che noi stiamo ancora vivendo un passato ormai pluridecennale ma non secolare di quello che fu l'introduzione degli antibiotici ricordiamo che non è poi se consideriamo la storia da un punto di vista retrospettivo così lontano nel tempo e allora come sempre succede quando viene introdotto un qualche cosa che risolve drammaticamente in senso positivo i problemi poi dopo l'onda lunga può essere fin troppo lunga e diventare un'onda che magari va a incidere su una battigia che non è quella che proprio dovrebbe essere la sua da un'altra è una questione sempre di formazione e questo pone in essere quelli che sono i principi di formazione continua che un medico deve sempre tenere presente un medico e gli altri certamente professionisti dell'ambito sanitario e poi possiamo anche dire che può darsi che determinate oscillazioni giurisprudenziali che si sono avute in questi anni ricordiamoci la dottrina del contatto che diventa contratto dell'inversione dell'onere della prova poi si torna mezzo passo indietro poi si va mezzo passo avanti ha fatto sì ha ingenerato e così in molti colleghi magari la sensazione che l'avere come si dice dalle parti mia per non saperne leggere né scrivere prescritto l'antibiotico potesse in qualche modo costituire una difesa è chiaro che il superamento integrato di tutte quante questi ostacoli quindi il riposizionamento in ambito storico degli antibiotici che restano fondamentali ma proprio perché restano fondamentali per la cura di certe malattie non dobbiamo giocarci rifavorendo antibiotico resistente per terapie incongue da un altro magari una legislazione in ambito sia mi riferisco in particolare a quelli che sono le realtà giurisprudenziali che emergono un pochino diversa da quella che per tanti anni ha imperversato e da un altro anche la ripresa della voglia di studiare perché noi dobbiamo studiare ma non è che dobbiamo studiare DPR DPCM DM che ogni settimana come delle volte capita di vedere cambiano noi dovremmo ristudiare sui libri scientifici e allora più tempo dedichiamo allo studio della burocrazia per carità rispetto delle norme è assoluto però forse se qualche carta in meno da compilare e da vedere per obbligo amministrativo si sostituisce una carta scritta con un articolo interessante con una review sistematica di casi con ricerche serie con analisi importanti dei dati da cui poi scaturiscono teorie conferme di teoria abbiamo avuto qui appunto il dottor Lapi che essendo direttore di ricerca del SER ha il polso della situazione di quello che succede e quindi si può verificare da quel punto di vista se il cambiamento culturale è in corso o non è in corso perché si possono vedere lui lo sa bene lo fa quelli che sono gli scostamenti non solo da anno in anno ma anche dall'inquennio in quinquennio e così via ecco io credo che il superamento di tutto quanto questo per venire alla domanda che mi è stata fatta possa dare questa spinta in avanti poi ricordiamoci che siamo prossimi anche a un cambio generazionale parlava prima la collega Rongai dei pediatri che hanno delle difficoltà a riempire gli organici questo ormai si verifica anche nel campo della medicina generale e questo cambierà anche nei prossimi anni da un lato può essere crisi da un altro con questo termine di equivalenza così ad usato in questi anni crisi può anche significare opportunità no è allora opportunità di riposizionare opportunità di rivedere i ruoli opportunità di andare avanti grazie grazie mille dottor Buono per questa pronta risposta passerei subito la parola al dottor Walter Marrocco responsabile se è possibile se è possibile un rapido commento che mi era stato sollecitato oppure se volete aspetto no prego prego professore prego no a proposito del di quanto è stato detto è necessario considerare un cambio di paradigma il cambio di paradigma anche medico legale cioè passare dalla omissione dal concetto di omissione spesso la prescrizione antimicroel e l'antibiotico è espressione di una medicina difensiva c'è un eccesso di empirismo febbre uguale infezione uguale antibiotico c'è come dire una scorciatoia anche clinica che porta a mettere le mani avanti dice io in dubbio proreo intanto gli do l'antibiotico perché non gli fa male no questo è l'elemento che va completamente ribaltato perché un antibiotico terapia inutile può fare danno al paziente per gli eventi avversi e sicuramente danneggia la flora microbica favorendo l'emergenza delle resistenze ecco perché io invoco da clinico fortemente da esperto di terapia antimicrobica la necessità di quello che io definisco un cambio di paradigma cioè di rimuovere in qualche modo il concetto del reato omissivo del reato di omissione e di puntare decisamente e professionalmente con l'aiuto di tutte le figure che abbiamo visto protagonisti e ben rappresentati oggi pomeriggio sull'appropriatezza non è più l'omissione che ci deve spaventare ma è l'appropriatezza che ci deve guidare grazie grazie a lei professore grazie mille davvero prego Walter Marrocco e poi Luca Pacini salve buonasera a tutti grazie ovviamente dell'opportunità io ritengo che il tema della PCR molto interessante sia utilizzabile anche come momento e opportunità di ampliare la discussione così mi è sembrato si è parlato anche delle altre potenzialità delle indagini allargate oltre la PCR si è parlato anche dei modelli organizzativi del nostro servizio sanitario nazionale in particolare i colleghi gli amici farmacisti hanno rappresentato tutte le attività che hanno svolto in questo periodo e questo perché anche la tecnologia e il mondo che cambia le esigenze che cambiano lo stress che il nostro servizio sanitario ha subito attraverso la pandemia ha creato dei bisogni e a questi bisogni in qualche modo si è risposto io però vorrei rifare qualche considerazione aggiuntiva cioè credo che per quanto riguarda l'antimicrobico resistenza il tema non va affrontato ovviamente soltanto con la PCR che andrebbe sicuramente più utilizzata ma è un tema che va affrontato con un'analisi più complessa che riguarda tutti i componenti dell'argomento i medici i laboratori ma anche i pazienti e ovviamente anche in questo caso le farmacie ritengo che debba essere progettata un'analisi quindi una ricerca delle esigenze della terapia antibiotica sul metodo di utilizzo degli stessi da parte del territorio ponendosi quali temi in primis beh allora un'analisi del tipo della frequenza delle infezioni che noi andiamo a osservare nel nostro ambulatorio la presentazione clinica delle stesse la durata di sintomi di organi colpiti le ricadute sulle esigenze sociali dei cittadini in ambito di malattia perché sappiamo che i nostri pazienti subiscono molto sia per esigenze personali sia perché vengono sottoposte esigenze anche di prestazioni lavorative essere più efficienti possibili e quindi la risposta agli strumenti farmacologici viene sollecitata frequentemente sollecitata proprio dagli stessi nell'ipotesi di accorciare i tempi di malattia ma direi anche cosa che sta fortunatamente avvenendo l'accessibilità o la disponibilità di materiali per un antibiogramma per le cosiddette indagini che gli anglosassini definiscono point of care cioè la possibilità di svolgere le indagini lì dove si svolge la cura per cui è chiaro che se parliamo delle patologie respiratorie o le patologie dell'apparato urinario che sono poi molto frequenti nel contesto della medicina generale noi in realtà subiamo la necessità di un approccio empirico troppo spesso mentre sentiamo la necessità di avere caso mai indagini che ci danno una risposta più rapida prendiamo l'urinocultura che richiede alcuni giorni mentre se avessimo una risposta non dico al momento ma in poche ore potremmo forse dare una terapia in modo assolutamente più mirato ecco tutte queste tematiche sono oggetto anche di attenzione da parte dell'industria tant'è che ci sono progetti europei che stanno sviluppando una diagnostica smart come viene definita che potrà essere messa a disposizione anche sulla medicina del territorio sarà utile anche avere una collaborazione con i laboratori perché poter avere un quadro epidemiologico delle infezioni del territorio per territorio potrebbe anche aiutare una zona rispetto a un'altra a fare delle scelte di molecole rispetto ad altre e poi ovviamente andare a verificare quale sono le azioni che noi attuiamo dopo la risposta di laboratorio e come riusciamo a intervenire sui nostri pazienti ma io direi che al di là di tutto quello che va valorizzato visto le opportunità che abbiamo noi come medici di famiglia ma anche i farmacisti i pediatri nel collaborare a dare delle risposte diagnostiche ai nostri cittadini ai nostri pazienti però ecco io vorrei sottolineare un'attenzione cioè va sempre valorizzato quello che è l'essenza della nostra attività del nostro ruolo che è la professionalità cioè non vorrei rendere eccessivamente preeminente o mettere in subordine la professionalità rispetto alla managerialità perché attenzione una managerialità che migliora l'efficienza della risposta è assolutamente auspicabile è una managerialità che interviene sul modello organizzativo della nostra fornitura di servizi è auspicabile ma attenzione a non confondere la managerialità con delle una gestione più che altro che vada nell'organizzare un servizio a scapito della professionalità medici di famiglia pediatri e farmacisti a mio avviso rimangono sostanzialmente dei professionisti e quindi credo che tutte quelle tutele che professione per professione fino ad oggi hanno caratterizzato la risposta i nostri cittadini vadano comunque condivise o vadano implementate la risposta per esempio dell'uso dei vaccini presso le farmacie che ha dato un certo tipo di risposta chiaramente sarà interessante andare a vedere un pochettino i numeri anche perché credo che la medicina generale ha svolto un ruolo enorme verso questa direzione in funzione anche di una ridotta fornitura che c'è stata in molte regioni di vaccini alla medicina generale ecco vorrei chiarire che la garanzia al cittadino di un di saper gestire l'aspetto anamnestico e anche l'aspetto di risposta ad eventuali reazioni avverse deve essere garantita e questo scusate non può bastare un corsetto ma serve che tutti acquisiscano quelle competenze che fino ad oggi hanno garantito al cittadino questo tipo di servizi e poi sono stati infine trattati altri temi tipo l'approccio del paziente al farmaco ecco io credo che la pandemia ha messo in evidenza un ulteriore aspetto che va oltre la cosiddetta aspetto diagnostico che è quello dell'approccio del paziente al farmaco e credo che con il PNRR noi andremo ad affrontare delle nuove ipotesi di lavoro queste ambiti organizzati in casa della comunità ospedali di comunità le centrali operative beh insomma se noi vogliamo lasciare soltanto speriamo di no delle mura dovranno essere riempiti di contenuti e di organizzazione del lavoro ecco io credo che anche lì si potrà gestire per alcune tipologie di pazienti anche una fornitura di farmaci che potranno essere o a domicilio oppure la somministrazione di farmaci che attualmente vengono fatte in strutture residenziali tipo l'ospedale parlo dell'oncologico ma credo che invece la fornitura e la somministrazione potrà venire direttamente oltre che nell'ambito ospedaliero anche nell'ambito di queste case della comunità dove team multidisciplinari lavoreranno insieme e potranno rispondere maggiormente alla richiesta del cittadino grazie grazie mille a lei dottor Marrocco allora saluto il dottor Eugenio Leopardi che vedo che è riuscito a connettersi presidente di Federfarma regione Lazio al quale diamo la parola in seguito al dottor Luca Pacini dottore Università Sapienza Dipartimento di Scienze Biotecnologie Medico-Chirurgiche della Facoltà di Farmacia e Medicina di Latina allora prima Leopardi e poi prima Pacini e poi direi Leopardi allora Luca Pacini certo prego allora innanzitutto buonasera a tutti grazie per questo webinar grazie ai relatori che hanno fatto delle ottime esposizioni addirittura mi trovo quasi in dubbio con tutti gli argomenti che avevo preparato prima di me che sono stati esposti in una maniera direi abbastanza eloquente e abbastanza perfetta io parlerei un pochino più da tecnico se mi permettete tutti i dati dimostrano come ci sia ad oggi una inappropriatezza terapeutica quasi del 30% e la proteina ci riattiva con altri dati appena pubblicati leggo qui davanti a me sul New England o sul British Medical Journal che riesce a recuperare addirittura un 28.8 di appropriatezza terapeutica tra gruppi a cui è stata fatta praticamente questa analisi e i normali trattamenti questo che significa? Significa che abbiamo finalmente uno strumento veloce per poter avere una giusta appropriatezza terapeutica una giusta appropriatezza anche prescrittiva ma soprattutto una cosa in un discorso che è quello dell'abonacip parlo in maniera un pochino più tecnica mi scuso di strumenti che arrivano ad essere e a dare delle risposte in davvero meno di un quarto d'ora che riescono a poter essere indice di un biomarcatore che ci può prescrivere o meno una determinata terapia che come abbiamo visto ad oggi sarà la pandemia del futuro che possiamo discutere su quella che è e che sarà sempre di più una terapia personalizzata una terapia mirata al singolo paziente la problematica sta in questo momento secondo me nel risolvere le sinergie e cioè tutti quei rapporti che ci sono oggi ma soprattutto tra i vari operatori che devono come ha detto giustamente prima anche il dottor Marrocco esprimere la loro alta professionalità perché parliamo di figure altamente professionali ma soprattutto gestire quella che è oggi una giusta e corretta informazione per il paziente per quale motivo questo perché realmente la medicina del futuro sarà una medicina molto più mirata una medicina veloce e quindi da qui va bene il discorso della farmacia territoriale delle case di cura primaria che gli diano la possibilità di decidere in poco e in breve tempo la terapia giusta migliore e personalizzata il più possibile al paziente purtroppo le altre cose parlare del 10 marzo della nota AIFA parlare del rapporto census parlare di dati in questo momento mi sembra abbastanza ripetitivo quindi ringrazio a voi per questo splendido webinar e ringrazio soprattutto chi ha parlato prima di me grazie grazie mille lei ricordo che questo qua è solo il primo giro di tavolo poi appunto il nostro il mio collega Alessandro Malpelo giornalista mi farà ulteriori domande per approfondire il tema trattato io allora passerei subito la parola al dottore Eugenio Leopardi presidente Federfarma regione Lazio grazie mille di essere qua con noi grazie a voi grazie all'invito scuso per il ritardo ho seguito da audio che dovevo fare un trasferimento in macchina irrimandabile quindi comunque ho sentito quello che è stato detto ho aspettato le relazioni di tipo scientifico e quello che posso dire per quanto riguarda il mondo che rappresento i farmacisti e il Lazio ma che comunque non sono che non si fermano i confini del Lazio perché comunque la professione del farmacista è uguale in tutta Italia e la struttura e la farmacia cerchiamo nonostante le 21 sanità regionali cerchiamo di renderla omogenea sul territorio combattendo regione per regione per cercare proprio di smussare alcuni angoli alcune diversità regionali e chiaramente questo progetto è interessante interessa la farmacia appieno perché la farmacia l'ha dimostrato in questa pandemia è stata sempre presente ha dato una risposta uniforme sul territorio nazionale al cittadino che si è trovato di fronte a un mostro tutti quanti si è trovati di fronte a un mostro con mille notizie che arrivavano dalla televisione la farmacia è stata sempre una porta aperta sul territorio dove il cittadino comunque poteva venire si poteva recare era un posto di accesso dove trovava un professionista che ha saputo dare delle risposte ma questo non per piageria ma proprio per dire che noi ci siamo sempre stati il cittadino l'ha apprezzato questo qua l'ha apprezzato anche con con lo sforzo che abbiamo fatto per effettuare i tamponi noi avevamo i media che nei giorni precedenti all'autorizzazione alle farmacie di poter effettuare i tamponi mostravano file interminabili negli hub nei drive-in dei tamponi quando si è aperto al mondo della farmacia piano piano queste file sono andate scemando perché il cittadino comunque trova vantaggio nello scendere sotto casa questa è una cosa importante ed è maggiormente importante per un tipo di analisi del genere tipo di di analisi che chiaramente passa per il medico perché il farmacista è sempre quello del recipe del prendi questa è la nostra storia il medico ordina e noi eseguiamo questo noi abbiamo sempre fatto mi dispiace così le parole del dottor Marrocco che non crede molto nel farmacista però quello poi mi auguro che si ricrederà si ricrederà le parole giuste sono quelle che ha detto il dottor Lapis secondo me cioè il cittadino il medico anzi il medico prescrittore ha bisogno di avere subito una risposta se noi parliamo di ASD di laboratori di analisi i laboratori di analisi sono legati a determinati orari per fare un prelievo la farmacia è sempre aperta 24 ore su 24 non abbiamo 20.000 posti sul territorio a disposizione del cittadino gli ambulatori che fanno orario nel pomeriggio hanno bisogno di poter fare l'analisi della proteina C subito non aspettare la mattina dopo se va che si fa tornare il paziente tre volte in ambulatorio insomma ecco questa è la nostra forza la forza della capillarità e la forza della professionalità perché noi siamo diventati i farmacisti vaccinatori non con un corsetto tra virgolette riporto le parole al professor Marrocco ma con un corso importante fatto dall'istituto superiore di sanità affiancato da un corso di pronto soccorso il punto di primo soccorso dove quelle nozioni che ci mancavano le abbiamo acquisite quindi noi siamo forti la nostra professionalità e la difendiamo non vogliamo invadere i campi di altri siamo sempre a disposizione delle istituzioni e soprattutto del cittadino noi condividiamo tutto quello che l'istituzione fa per il cittadino non per far crescere la farmacia italiana o per far dare una mano a una amica queste cose noi no noi crediamo nel cittadino perché il nostro la nostra interfaccia è quella se il cittadino è scontento ci manifesta ogni giorno noi non abbiamo un filtro noi siamo una porta aperta sulla strada dove il cittadino entra e ci può dire sei un cretino sei un mascalzone non capisci niente oppure sei bravo vengo qui volentieri e su quella forza noi investiamo tutta la nostra professionalità e quindi su questo anche investiremo la nostra professionalità perché riteniamo se condiviso dal mondo medico mi sembra di aver creduto di sì che il cittadino abbia bisogno di poter riportare presto questa risposta al suo medico grazie 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 Adel adesso a questo punto noi abbiamo concluso la carrellata abbiamo ascoltato tutti i nostri interlocutori e se vogliamo abbiamo ancora un'oretta buona per un secondo giro di ascolto ma ci dobbiamo dare un programma una scaletta per fare in modo che chi deve scappare prima come Walter Marrocco abbia la possibilità subito di fare una sua controreplica io provo a ipotizzare Alfredo Procaccini aveva alzato la mano anche lui voleva dire un dare un suo punto di vista io direi che nella seconda parte lasciamo a Francesco Menichetti a Francesco Buono e a Luca Pacini diciamo così il compito di tirare un po' le fila nel frattempo ci siamo congedati abbiamo salutato il segretario nazionale della società italiana pediatria Elena Bozzolo che ci ha lasciati e direi quindi a questo punto se siete d'accordo o prima Marrocco o prima Procaccini e poi Manuela Bandi cosa dite? Chi è che vuole parlare prima? Malfredo o Walter? Walter Allora scusate allora io non ho da fare controrepliche vi affermo quello che ho detto prima che tutto sommato mi sembra poi anche se da posizioni ovviamente diverse vi ho affermato dalla dottor Leopardi quello che va garantito al cittadino è l'aspetto di capacità e coerenza professionale ho solo detto di attenzione non subordiniamo la crescita professionale all'aspetto manageriale che conta e serve ma siccome lavoriamo in ambiti diversi può essere osservata e può essere gestita in modo diverso la professionalità è l'essenza che ha costruito le nostre percorso professionale dalla laurea in poi sia come medico di medicina manageriale sia come farmacista la collaborazione ovviamente è assolutamente auspicabile in alcune parti è anche già qualcosa di attivo quello che voglio ribadire è che attenzione non nascondiamo dietro la managerialità ma lo dico anche ai medici non lo sto dicendo sembra quasi lo dico ai farmacisti no attenzione a non nascondere dietro la managerialità una organizzazione che guardi più che altro al profitto più che al servizio di tipo scientifico professionale che noi dobbiamo garantire perché abbiamo questo obbligo etico verso i nostri cittadini è solo questo non c'è nessuna polemica verso nessuno però ricordiamocelo tutti questo messaggio a seguire si era pernotato Alfredo Procaccini gli diamo la parola prego ecco grazie beh diciamo che questo Marrocco ha cercato di indorare la pilota forse sopra ci ha messo il carico no perché ovviamente fare i vaccini non è un aspetto manageriale ecco io sotterrerei un po' questa ascia di guerra che si sta un pochino che sta venendo un po' fuori ci sono delle normative che prevedono alcune cose si sono sviluppate insieme alla farmacia e con le esigenze di territorialità quindi mi ha preceduto il collega Lopardi ovviamente noi non abbiamo fatto un corsetto bensì insomma la preparazione piuttosto attenta di quello che era la necessità per fare i vaccini però tornerei a dire che questa collaborazione che spesso noi così citiamo in questi corsi poi in effetti in realtà dei fatti bisogna anche applicarla allora se il medico sa che la farmacia sotto lo studio fa la proteina C reattiva sicuramente ecco può utilizzare la farmacia perché questo può farlo in qualsiasi momento anche della notte spesso no? le case comunità il dottor Buono mi sembra parlava prima dell'ordinamento delle case comunità di una distribuzione diretta del farmaco ecco a parte che non è prevista e cercheremo di far sì che non sia neanche prevedibile perché noi continuiamo a pensare che il farmaco sia presente sul territorio capillarmente per il cittadino noi dobbiamo un pochino a volte e parlo anche per me ovviamente smettere di pensare a Roma a Milano a Napoli ma andare un po' a Rocca Canterano andare diciamo nei paesetti nei quali la distribuzione diretta del farmaco rappresenta un onere sociale importante perché ci va il nipote ci va l'amico ci va qualcuno a prendere un farmaco lontano 30-40 km quindi figuriamoci poi per quanto riguarda le case comunità che servendo 50.000 persone perché questo farmaco di case comunità avranno a parte Roma in una non so in una regione come la Lucania abbracceranno un tale una tale ampiezza di territorio peraltro anche montuoso e con una viabilità tutta relativa costringendo le persone ad andare in casa comunità a prendere i farmaci la terapia per sei mesi che poi magari dopo un mese vedi che non va bene la devi anche cambiare con tutti gli sprechi relativi quindi veramente pensiamo al cittadino io dico questo veramente pensiamo al cittadino ma non è il manager farmacista che parla perché io sono a Roma peraltro tante farmacioni in città pensiamo a quello che accade nei paesi dove veramente il medico il farmacista il sindaco il maesciallo i carabinieri sono le quattro figure sulle quali i cittadini si appoggiano beh quelle farmacie quei paesi quegli studi medici rappresentano una bandiera importante del nostro servizio sanitario nazionale e vanno utilizzate al meglio cioè se il cittadino deve andare nella casa della comunità per prendere i farmaci e metterci una giornata perché non è come a Roma che c'è lo studio sotto casa cioè l'ASD sotto casa questa è una riflessione sulla quale dobbiamo comunque che è una riflessione che dobbiamo comunque condividere allora domandarsi quanti vaccini hanno fatto le farmacie a tutti gli effetti invece dei medici secondo me non porta da nessuna parte perché non è che io mi chiedo quanti tamponi hanno fatto le farmacie più dei medici non ci interessa i medici che erano presenti sul territorio e i farmacisti che lo hanno fatto hanno dato alla cittadinanza l'opportunità di fare i vaccini vicino casa invece di andare negli hub vaccinali con la prenotazione e perdendo tantissimo tempo questo è quello che noi dobbiamo pensare io veramente cercherei di agire in sinergia nei confronti del cittadino nell'attenzione al cittadino con le normative perché le normative attuali hanno interpretato hanno interpretato una esigenza sul territorio non è che il legislatore si è inventato i vaccini in farmacia perché dice quasi quasi faccio fare i vaccini no è stata un'esigenza perché quell'esigenza c'è stata e si è visto che rimane sul territorio i farmacisti professionalmente si sono preparati non ci sono stati facendo le torna problemi particolari perché è ovvio che il vaccino ha una valenza a un certo tipo e i pazienti fragili sono giustamente stati vaccinati presso le strutture protette questo non dimentichiamocelo perché i farmacisti che hanno ritenuto di mandare cittadino le strutture protette lo hanno fatto e quindi è una farmacia che professionalmente sta cambiando faccia ma non dal punto di vista managinale ma dal punto di vista professionale in questo si integra il discorso della polenica cittadina attiva che tutti i giorni tutti i giorni festivi e tutte le notti può essere una ricerca importante da fare in farmacia quindi questo è il mio pensiero nel senso sinergia vera professionalità che tutti abbiamo vera managerialità che serve perché comunque stiamo parlando così come lo studio medico è una piccola azienda che chiaramente ha un affitto dello studio c'ha la segreteria c'ha tutte le sue belle spese dpi e quant'altro la farmacia è un'azienda con delle persone che hanno una famiglia a casa che aspetta e che vivono anche di quello quindi siamo manager sì noi abbiamo sempre diciamo utilizzato questa dicotomia i farmacisti sono dei manager e sono anche dei professionisti questa identità noi ce l'abbiamo la confermiamo la confermiamo cioè ce la manteniamo ma con l'epidemia con questi due anni la parte professionale è diventata preponderante quindi ma manteniamo sempre tutte le realtà vogliamo farlo in sinergia con tutti gli attori questo palcoscenico è brutto definirlo così ma veramente il palcoscenico della vita che in questo momento ha riservato amare sorprese ma anche tutto sommato un sistema sanitario che si sta evolvendo molto bene allora si devo parlare di ascia di guerra ma abbiamo subito degli argomenti per tornare in una diciamo così in una condivisione di punti di vista io devo fare il mio mestiere di cronista e darvi una pur nella situazione drammatica di queste settimane che stiamo vivendo vi devo dare una notizia da cronista e cioè che sono usciti da pochi minuti i negoziatori dai colloqui di Istanbul hanno parlato di negoziati costruttivi il capo delegazione di Mosca ha annunciato che la Russia ridurrà radicalmente la pressione militare su Kiev e ha annunciato così il vice ministro della difesa russo al termine dei colloqui che la decisione è stata presa per aumentare la fiducia reciproca riconquistare un margine di affidabilità finché nei prossimi round dei negoziati si arrivi a concordare a firmare un accordo di pace con l'Ucraina e i mercati hanno risposto positivamente in questi minuti sapete che i listini sono sensibilissimi ai mutamenti politici quindi sembra che abbiamo preso una strada per fortuna improntata al dialogo costruttivo e dialogo costruttivo e a maggior ragione dobbiamo farlo noi tenerlo noi in questo momento perché stiamo parlando e stiamo cercando in queste battute conclusive di questa nostra giornata di convegno di individuare dei punti di vista comune e condivisibili che possono tradursi in un progresso non diciamo così non nell'ingessare la situazione simpliciter ma avere un progresso io vorrei chiedere a Luca Pacini di riattivare un attimo il microfono e prima di proseguire e chiudere se Walter Marrocco ci deve salutare visto che alle 16.30 aveva questa necessità noi intanto lo ringraziamo di aver partecipato ma noi andiamo avanti e chiedo a Luca Pacini se sei d'accordo diciamo così un aggiornamento ma sull'aspetto pratico concreto allora come cambia diciamo così la proteina C reattiva quali sono le utilità di questi test ci dai qualche pennellata pratica così in modo da non perdere di vista qual è il nostro traguardo anche perché aggiungo solo una cosa è arrivata una domanda in chat da parte di uno spettatore quindi è un tema che sta interessando molto il nostro pubblico quindi se possiamo approfondire grazie mille ci mancherebbe allora rinnovandovi i ringraziamenti molto semplicemente la proteina C reattiva viene prodotta dal fegato come abbiamo visto come altre persone hanno già spiegato meglio molto meglio prima di me il discorso molto semplice è che è un glicopeptide oltretutto in forma pentamerica che ha un timing molto particolare che significa che durante l'infiammazione cresce cresce intorno fino alle 48 72 ore per poi quando l'infiammazione è passata inizia a diminuire prima se non ricordo male c'è stata una domanda se anche i virus la fanno attivare in verità è stato dimostrato che chi fa attivare molto di più la proteina C reattiva che come abbiamo visto è un marker A specifico ma come marker A specifico è diciamo così abbastanza discriminante tra quella che è un'infezione virale e un'infezione batterica tant'è vero che molti degli studi specialmente come prima discutevamo con i medici giustamente che si occupano dei bambini i pediatri è stato visto come utilizzare la proteina C reattiva è fondamentale nelle infezioni dei bambini piccoli proprio per poter diagnosticare o meno nell'uso degli antibiotici qual è l'altra forza l'altra forza è che ad oggi con quelli che sono le ultime metodiche non parliamo di competitor e di case costruttrici ma diciamo che con quella che è la miniaturizzazione dei materiali con le lanotecnologie con quello che è realmente che viene identificato con il LabonaChip cioè degli strumenti che hanno la capacità di utilizzare da 10 a 20 microlitri di sangue per renderci conto una goccia di sangue presa dal dito ed avere la stessa efficacia nella diagnostica di uno strumento presente in tutti i laboratori di diciamo così clinica più elevata fanno capire come non voglio entrare in polemica ma un'analisi fatta in 15 minuti nella farmacia presente realmente scegliete voi quale paese di provincia rurale o meno che abbia tra virgolette la problematica di non avere il laboratorio clinico o ad esempio di avere il medico come succede da alcune parti per tre giorni alla settimana o quattro giorni alla settimana e quindi avere bisogno di una risposta veloce anche perché il paziente non può arrivare ad esempio in provincia fanno sì che in 15 minuti il tempo tecnico si abbia una risposta sono favorevole sì sono favorevole all'utilizzo di qualsiasi strumento che mi permetta di dare una pratica clinica terapeutica appropriata ad ogni singolo paziente soprattutto perché migliorare la pratica terapeutica la personalizzazione della farmacia e il farmaco giusto alla persona giusta non solo salva il paziente ma salva noi stessi spero di aver risposto bene direi molto bene allora siamo a delle battute decisive io non so tra i nostri ospiti se Emanuela Bandi vuole inserirsi in quest'ultimo ragionamento e darcela certamente voglio inserirmi voglio inserirmi esattamente nell'ottica che hanno sottolineato i miei colleghi e che ha sottolineato il dottore nell'ultimo intervento lo scopo ultimo del nostro lavoro è quello di rendere la professionalità di tutti migliore e più efficace se io in farmacia posso in pochi minuti dare un risponso che serve per alleggerire il lavoro del medico e del pediatra che vedrà la persona un'ora dopo ed arrivare già con una risposta che possa essere qualificata professionale seria ed è quello che noi facciamo tutti i giorni che siamo già in grado di fare in questo istante non abbiamo necessità di attrezzarci non siamo già attrezzati questo rende migliore il mio lavoro rende sicuramente migliore e come dire più proficuo il lavoro del medico che arriverà immediatamente dopo il mio durante questa pandemia è apparso chiarissimo come le forze non possono essere disperse allora ci sono delle strutture già pronte ci sono lasciando perdere le caratteristiche legali dalle quali nessuno di noi si vuole si vuole scostare non mi ricordo chi negli interventi precedenti appunto parlava della appropriatezza e del fatto di poter seguire veramente una terapia ma caspita sfruttiamo quello che di meglio ognuno di noi può dare il fatto di verificare il fatto di poter riscontrare se una terapia venga effettivamente portata a termine vi garantisco che in farmacia le persone entrano ogni secondo a sottolineare funziona questa terapia mi sta dando delle difficoltà certamente lo fa con una facilità maggiore di quanto non sia l'ingresso nell'ambulatorio medico che pure rimane chiaramente il punto sostanziale allora un buono scambio di informazioni tra di noi un buon lavoro professionale in sinergia a mio modo di vedere non solo è quello che si auspica la professionalità del futuro è quello a cui le nuove possibilità ci aprono sia le possibilità legislative che le possibilità tecniche ma esattamente è quello che tutti noi dovremmo cercare dovremmo ricercare anche con fervore tutto il resto sono parole interessanti serie che possiamo fare ma che non portano nessun beneficio al cittadino finale che rimane il nostro obiettivo rimane quello che tutti noi vogliamo fare grazie posso rapidamente dare alcune piccole risposte intanto il dottor Prucaccini volevo ricordare che non ho parlato di farmaci nella casa della salute ma non perché non sia un problema ma unicamente perché non ho la competenza per farla che ad esempio ha il dottor Marrocco di cui ricordiamo i numerosi era qualcun altro mi scusi dottore era qualcun altro no no va bene era soltanto una piccola precisazione senza problemi alla dottoressa Bandi certamente la sinergia è un valore aggiunto noi lo vogliamo ma ricordiamo come e già il collega della Simge prima lo aveva ricordato esistono situazioni in cui il medico ha il suo point of care nel suo studio ci sono situazioni in cui non ce l'ha ce l'ha il farmacista in prossimità nulla vieta assolutamente io non credo che ci siano medici che non vogliano avvalersi di questa possibilità ecco casomai è opportuno che lo sappiano e vicendevolmente che lo sappia anche l'utenza che ci sono aggregazioni di medici che questo tipo di offerta la possono dare riguardo al discorso al binomio managerialità professionalità quindi non è che vogliamo usare il termine di managerialità in senso bestemmiatorio perché è un valore aggiunto che esiste a tutte le professioni per carità il farmacista il medico e quante altre che possano sapersi organizzare in modo manageriale non vanno assolutamente demonizzati però il dottor Marrocco ha sottolineato come è la caratteristica fondamentale che ognuno di noi ha è quello di essere dei professionisti sicuramente ci sono dei corsi più approfonditi meno approfonditi ma qualunque corso non è una questione di farmacisti o di medici sarebbe lo stesso discorso se venisse fatto un corso di merceologia a un medico e questo potesse essere paragonato con quello che in altri ambiti qualcuno ha studiato in modo sicuramente molto molto più approfondito di conservazioni o di tutto una serie di professionalità di preparazioni di soluzioni galaniche insomma ci sono tanti ambiti in cui è giusto doveroso che ci siano corsi informativi in parte anche formativi però in particolare ecco il tampone prevede determinate cose la preparazione di un certo tipo la gestione di quello che è il quadro anamnestico personale e anche familiare di un paziente che si appresta a fare un vaccino pone in essere una serie sia di competenze e sia di conoscenza maturata nel corso degli anni in qualche caso parliamo a livello familiare anche nell'ambito dei decenni insomma ecco qualche possibilità approfonditivo conoscitiva in più sicuramente c'era ma questo non per assolutamente per voler dissotterrare nessuna ascia di guerra di cui nessuno di noi ha proprio alcuna voglia noi dobbiamo andare incontro alla costituzione di squadre e di territorio di professionisti che agiscono a livello di territorio che siano il più possibile omogenee per cui conosciamoci meglio reciprocamente e sicuramente tutto quanto il sistema funziona meglio ecco mi permette soltanto fare un piccolo una piccola non chiamiamola nemmeno replica un piccolo contributo a questo dibattito che sto seguendo con molto interesse anche perché appunto proviene proprio perché proviene da professionalità diverse altrimenti sarebbe un po' un monologo i monologi vanno bene ma fino a un certo punto non per rubare il mestiere ai moderatori ma credo che se leggete l'ultima chat la dottorissa Poma è la conclusione perfetta di questo simposio lo racconto ci scrive una telespettatrice di Zoom che grazie appunto alla rilevazione farmacia della PCR della CRP chiedo scusa è stata diagnosticata una bambina di 7 anni una quasi peritonite quindi direi che è un esempio pratico vediamo chi ce l'ha scritto il nome di chi ce l'ha scritto Elena Maria Baima Poma grazie mille di averci portato questa esperienza perché appunto è un caso pratico del quale discutere è molto importante da affiancare alla teoria di cui abbiamo parlato assolutamente viviamo anche di case histories di casi pratici di casi clinici che ci raccontano ci fanno vedere come è la pratica clinica poi si la cosa più importante è che la sua pediatra in seguito a quell'esame ha potuto riscrivere un antibiotico che ha contribuito a sfiammare l'appendice e non farla andare in peritonite quindi diciamo ecco questo chiude proprio il cerchio di collaborazione fra professionisti certamente assolutamente così mi limito a dire che questo sicuramente è avvenuto è sicuramente un ottimo esempio di cooperazione mi limito a dire che laddove esistano questi point of care questi POCT e questo possa essere attuato è successo in un contesto in cui hanno evidentemente ben collaborato il farmacista con il medico può succedere anche in contesti in cui uno studio medico preferibilmente uno studio associato per tutta una serie di motivi anche di disponibilità di ambienti può a sua volta diagnosticare e avvalersi della PCR ma senza alcuna competizione si tratta semplicemente di offrire un discorso completo all'utenza un discorso completo che prevede che varie figure professionali abbiano questa disponibilità presto già ci sono degli studi di medicina generale che sono in grado di poter sfruttare questa metodica l'abbiamo visto per quanto riguarda ad esempio proprio il covid che qualche cosa l'esperienza del covid qualche cosa di positivo ce l'ha pure insegnato diciamo l'abbiamo iniziato a sperimentare con il calcolo del COI per quanto riguarda i tamponi e questo sicuramente un domani può essere riversato sulla PCR e su quant'altro ma senza volere assolutamente tanto per usare un termine un po' sgradevere sbattere la porta in faccia a nessuno qui abbiamo bisogno di porte aperte abbiamo bisogno anzi di archetti e non certo di chiusure grazie mille dottor Buono e a proposito di casistiche in questo caso particolari il dottor Zanon nella sua presentazione di scenario ha detto che la CRP può anche essere funzionale allo scovare malattie reumatiche e autoimmuni io volevo sapere appunto dal panel di relatori che cosa ne pensate e se può essere appunto una diciamo prospettiva futura dell'uso di questa proteina chi vuole rispondere chiediamo a Luca Pacini se vuole darci un suo parere dopo sentiamo Francesco Lapi su altre questioni sentiamo se Luca Pacini ci dà audio e se mi vuole dare un suo parere sui prospettive della ricerca e quindi di nuove e future applicazioni prego allora innanzitutto torniamo al discorso che come avevamo detto prima Zanon espressamente non è indice la proteina C-reattiva di un'infezione batterica e basta nel senso che come tutte le indagini e come tutti i biomarcatori del tipo della proteina C-reattiva possono essere differenti i sistemi sicuramente avere dei livelli elevati o comunque dei livelli fuori norma noi sappiamo bene che come abbiamo visto esiste un timing della proteina C-reattiva vedere che questa ha comunque un livello maggiore rispetto alla norma potrebbe essere un campanello da dover seguire e da dover studiare meglio nello specifico mi sono studiato nello specifico ho passato molti degli ultimi anni in quella che era la target therapy del paziente oncologico che significa significa che andare ad analizzare ogni singolo paziente nel tempo va solo a migliorare la pratica clinica terapeutica questo al medico e al farmacista nello stesso momento perché la giusta pratica terapeutica la giusta appropriatezza prescrittiva e lo studio clinico del paziente è quello che può nel futuro gestire al meglio sia il farmaco per il paziente sia la spesa farmaceutica dopo in futuro sono stato chiaro? Grazie Allora abbiamo ancora qualche minuto ma volevo chiedere se Francesco Lapi voleva inserirsi in queste ultime discussioni con un suo take on message siamo ai take on message finali siamo alle parti conclusiva quello che rimarrà di questo nostro pomeriggio trascorso insieme lei Francesco che cosa vuole che resti di tutte queste discussioni come tratto pratico ecco come atteggiamento come SIMG noi abbiamo la missione sempre di trasformare i risultati della ricerca in pratica clinica quindi non ha senso produrre dati se poi dopo non c'è una immediata implementazione degli stessi soprattutto negli strumenti informatici che caratterizzano la medicina generale per cui già ad oggi riuscire all'interno dei software dei medici di famiglia che sapete che rispetto ad altri ambiti specialistici sono quelli che sono più dotati di strumenti informatici perché è un obbligo ovviamente per svolgere la professione ma anche perché ne hanno una necessità ovvia data alla numerosità dei pazienti che ciascuno deve assistere inserire all'interno di questi strumenti un sistema di alerting che possa ricordare quando è possibile avvalersi la prescrizione di proteina sci-reattiva potrebbe essere un importante elemento io ho fatto l'esempio prima delle alte vie respiratorie ma c'è anche ad esempio l'esacerbazione da paziente con il TCO che è un altro elemento da tenere sempre in considerazione e poi come ultimo caso direi dato che il covid non scomparirà non dimentichiamoci che andrà a mescolarsi con altre malattie infettive quindi complicherà poi tutto quel percorso di diagnosi differenziale che vedranno anche in quel caso l'asse medico di famiglia farmacista in maniera diretta o indiretta a collaborare in qualche modo e non dimentichiamoci che anche il covid è stata una fonte spinta di inappropriatezza prescrittiva di antibiotici molto importante in quanto patologia virale che ahimè molti pazienti gravi per un 20% sono deciduti per sovrapposizione batterica ma molti pazienti non gravi territoriali hanno ricevuto in maniera impropria una grande quantità di antibiotici che ha sicuramente dato una spinta ulteriore alle resistenze e se anche in quei pazienti fosse stata più possibile l'eventuale nell'incertezza possibilità di prescrivere un esame di avere un risultato rapido sulla proteina cirriattiva forse tante prescrizioni di antibiotici inappropriate sarebbero state evitate quindi l'idea è quella che ad oggi il medico di famiglia ha anche parlando diciamo della mia area di competenza ha scientifica ha la possibilità anche di avere degli strumenti di supporto informatico che possono aiutarlo a capire a ricordargli quanto è importante prescrivere questo tipo di esame e perché no anche a ricordargli se nel suo circondario operativo c'è una farmacia o un'altra realtà lavoratoristica ma soprattutto una farmacia di cui potersi avvalere per poter avere un risultato molto rapido in questo senso bene allora abbiamo ancora 20 minuti per arrivare all'ora 17 con le ultime diciamo così vostre take-home message poi se ci vogliamo quindi chi ha diciamo così di voi relatori la possibilità di fermarsi anche dopo tra le 17 e le 17.30 diciamo così diamo e gettiamo le basi dei diciamo così del documento di sintesi che deve in qualche modo accompagnare la conclusione dei lavori quindi io non conoscendo chi di voi si può trattenere fino alla fine chiedo se eventualmente Leopardi vuole dare un ulteriore vuole inserirsi in questa mezz'ora fino alle 17 con un suo intervento altrimenti lo dico a Francesco Buono vediamo chi si inserisce tra di loro ma non so se il dottor Leopardi ha necessità di dover interrompere il collegamento prima io personalmente non ne ho fino all'ora che ci diceva appunto il dottor Alessandro Marpelo altrimenti posso fare qualche osservazione io se nella stessa disponibilità di tempo c'era il dottor Leopardi ed è quella che credo che le basi di una proficua stesura di un documento di sintesi sicuramente possano esistere sulla PCR che poi abbiamo giustamente peraltro divagato su tante altre cose sulla PCR è in dubbio l'importanza che ha nella gestione e ormai penso che sia acclarato nella gestione e nel management in senso virtuoso questa volta questo termine che richiamo un po' il manager nel management ecco delle infezioni acute abbia sicuramente una sua indicazione per quanto riguarda la compartecipazione a quello che è la definizione del profilo di fattore di rischio individuale chiaramente c'è bisogno di ulteriori studi c'è bisogno soprattutto di una visione clinica che possa saperlo inquadrare nel contesto di tanti altri parametri che ha che sono parametri ematochimici ma sono anche parametri definibili da quella che è la sua storia clinica la realtà che è in divenire la realtà di un paese che consta di metropoli ma consta anche questo è un tema che non ricordo chi ha sollevato centri dove ci sono magari 300 o 400 persone dove quindi il medico è presente due o tre volte alla settimana perché deve spargersi tra le varie frazioni che costituiscono quell'entità territoriale ecco questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente perché è il lato virtuoso di quella declinazione locale delle problematiche sanitarie che il decentramento vuole avere poi ci sono aspetti magari un po' meno virtuosi ma questo sicuramente lo è questo sicuramente lo è perché non possiamo mettere a paragone una città come Roma come Milano come Torino con un insieme di popolazione disseminata su territori anche estesi in cui chiaramente il discorso della prossimità è un discorso che va implementato e va sicuramente praticato al di là di quelle che poi possono essere i singoli professionisti a parte che questi singoli professionisti in un minimum set di formazione comune questo lo debbano avere perché lo dico perché parlo di minimum set perché una cosa di questo genere negli anni passati capitò per quanto riguarda le classiche campagne di vaccinazione anti-influenzare poi di vaccinazione anti-pneumococcica in cui capitava che magari ognuno proveniva dal suo cursus honorum o corso di studi per come lo vogliamo definire quindi con una sua specifica preparazione in materia e si finiva per non parlare mai ma in modo comune soprattutto da quando questo ha iniziato ad avvenire nemmeno parlo nella mia realtà territoriale con incontri aperti e gestiti praticamente da tutti allora le cose hanno cominciato a migliorare e i dati anche provenienti dalle vaccinazioni lo dimostrano credo che la strada sia quella di implementare durante proprio durante tutto l'anno momenti di formazione comune che possano nel rispetto delle reciproche e competenze capire in che modo ci si può vicariare soprattutto in quelle situazioni dove non c'è un'abbondanza contestuale di tutte quante le strutture e questo quindi è un po' un commento che mi sento di fare a questo punto di questo interessante incontro non so se il dottor Leopardi che vedo ancora presente vuole intervenire io sicuramente un documento fatto è doveroso farlo e chiaramente deve essere indirizzato verso una collaborazione fra professionisti sanitari credo che poi dovrebbe seguire a questo un minimo di confronto almeno io la vedo così proprio per quella realtà variegata che presenta l'Italia dalla grande città al piccolo paese al paese rurale e quindi anche alla popolazione rurale con le istituzioni perché se noi diciamo che l'abuso degli antibiotici è un danno importante per il cittadino per la comunità per lo Stato allora forse non so quanto può essere giusto mi metto nei panni del medico di medicina di base soprattutto del pediatra di dire al cittadino vai in farmacia e fai un'analisi che costerà non lo so non ho idea di quanto può costare il reattivo ma 5 6 8 10 euro insomma credo che saremo in questi termini non credo che andiamo oltre però comunque sono 10 euro che il medico costringe la mamma a spendere ecco questo è un problema che ci dobbiamo porre dobbiamo porre con forza uniti compatti alle istituzioni cioè se tu vuoi salvaguardare prevenire un problema al tuo cittadino al tuo bambino che vive nella tua regione devi anche contribuire con quei fondi che ci saranno per le campagne contro gli antibiotici quelle che vengono spese per i medici forse possono anche essere spesi per la CRP ecco questo è un passo successivo che forse dovremmo fare da professionisti sanitari che vedono nel cittadino una risorsa una persona a cui andare incontro forse coinvolgere le istituzioni e far sì che contribuiscano a questa campagna di prevenzione importantissima secondo me forse è un nostro dovere e forse quindi alla fine del documento si può richiamare ecco allora abbiamo abbiamo pensato visto che le cose solide le abbiamo messe messe giù di arrivare alle conclusioni alle ore 17 e quindi abbiamo ancora una decina di minuti un buon quarto d'ora se vogliamo per dirci fra noi e come ha detto ai lavori qual è il messaggio che vogliamo mandare alle istituzioni ora sicuramente io vorrei dire la mia cioè la possibilità di avvicinarvi in farmacia e di trovare diciamo così in una realtà diffusa cioè non a macchia di leopardo ma un pochino di sapere in ciascuna farmacia di poter trovare un approdo un approdo una risposta che non che il farmacista sia informato sia edotto magari dialogante anche con il medico e quindi che sia in grado di darmi un segnale in questo senso allora vorrei chiedere a Manuela Bandi se è una richiesta peregrina cioè se è un'idea illusoria se è un'utopia o se effettivamente stiamo andando in quella direzione e quindi a lei un intervento conclusivo per dire la sua e per capire cosa direbbe alle istituzioni visto che abbiamo iniziato questa questa riunione proprio con un intervento istituzionale certamente ma allora non è un'utopia è un percorso che si può sicuramente fare che molte regioni stanno facendo e molte realtà stanno facendo a mio avviso quello che un pochino ancora manca è quello su cui sicuramente Federfarma a livello nazionale e le istituzioni stanno cercando di lavorare è proprio un'uniformità in questo senso come accennavo all'inizio ci sono delle realtà molto organizzate io lavoro in regione Lombardia e quindi da questo punto di vista sicuramente posso offrire la mia esperienza qui abbiamo come raccontavo questa app che si chiama Farmacia Aperta permette a tutti i cittadini di vedere che tipi di servizi vengono svolti nelle singole farmacie naturalmente si tratta di realtà imprenditoriali e quindi non è pensabile che tutte le 3.000 farmacie presenti in Lombardia abbiano gli stessi tipi di servizio ma proprio perché ci si può integrare il valore sta esattamente in questo nel potersi scambiare anche tra farmacisti le giuste informazioni e potersi in qualche misura specializzare per cui con la presenza così capillare sul territorio il fatto che una farmacia offre un servizio e magari la farmacia vicina che nelle grandi città vuol dire a 200 metri di distanza ma anche nei centri più piccoli non sono non sono così lontane ecco allora questo ci permette veramente di avere una specializzazione di poter concentrare anche le nostre forze su quella specializzazione su quella su quei corsi su quella serie di attività che servono per poter svolgere veramente in maniera professionale ognuno la propria parte di lavoro se le realtà che già esistono si potessero in qualche misura confrontare secondo me faremo bingo sia per il cittadino che troverebbe con estrema facilità il riferimento che gli serve sia per quello scambio di informazioni così fondamentale tra professionisti succede frequentemente che da una chiacchierata in farmacia si colgano dei segnali spesso non voluti da parte della persona con la quale stiamo parlando ma che ci fanno scattare quei campanelli che con una semplice telefonata con uno scambio col medico più approfondito sicuramente permetterebbero di tenere sotto controllo delle situazioni anche molto gravi io credo che questo sia il vero il vero ruolo differente che il farmacista può svolgere perché a quel benedetto banco arriva veramente di tutto arriva dalla cosa più personale più intima la cosa più generale e questo valore di informazioni questo scambio a livello di aderenza alla terapia a livello di interazioni spesso il cittadino non si rivolge al medico che è oberato in questo momento per delle cose che ritiene di piccolo valore quando invece sono dei campanelli che rivelano un problema veramente più serio ecco allora un'interazione un modo di porsi tra professionisti che sia che sia rapido che sia come dire condiviso anche nel linguaggio sicuramente può essere un passo avanti da fare molte realtà sono già presenti in questo senso molto lavoro rimane da fare come in tutti i settori ma sicuramente i farmacisti sono disponibili a farlo e credo di averlo dimostrato insieme ai miei colleghi più che abbondantemente grazie 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 diamo a Eugenio Leopardi e Alfredo Procaccini la facoltà se lo ritengono opportuno 30 secondi di un messaggio di saluto poi io darei la parola a Luca Pacini per il saluto e poi a Francesco Buono per la conclusione se Procaccini vuole salutarci io gli do la parola sì sì io vi ringrazio diciamo nulla da aggiungere è stato un confronto estremamente profiguo e piacevole insomma voglio aggiungere tra professionisti che sanno bene quello che è esigenza del cittadino come venire l'incontro ma anche quali sono le esigenze delle nostre professioni che si trovano diciamo in un momento così di grandissimi cambiamenti quindi vi ringrazio ancora per l'opportunità saluto tutti vi ringrazio tutti e buon lavoro cos'altro dire grazie grazie a lei grazie Eugenio Leopardi anche da parte mia un saluto a tutti un ringraziamento a voi per aver organizzato questo simposio questo convegno credo che abbiamo interpretato al meglio insomma quel concetto di territorialità della sanità tanto caro il nostro ministro che attraverso il medico di miciglia generale attraverso il pediatra e attraverso il farmacista si e anche attraverso gli infermieri non lo dimentichiamo si manifesta su tutto il territorio il cittadino va messo al centro lo diciamo sempre si dice tutti i convegni noi credo che siamo fra i pochi professionisti che lo facciamo veramente noi intendo tutti noi professionisti della sanità buonasera a tutti buonasera saluto di Luca Pacini grazie anche io rinnovo i ringraziamenti per questo spendito webinar per l'ottima partecipazione dei vari talker e ringrazio voi perché credo che fare della sinergia tra professionisti sia il lavoro fondamentale per portare poi realmente nelle case di tutti l'informazione giusta e corretta specialmente visto che il nostro futuro sarà sempre più relativo alla cura personale e alla giusta e mirata terapia una sola cosa volevo aggiungere che prima non ho detto per quanto riguarda l'università esiste anche la via della terza missione che è appunto quello di creare nel giusto territorio la giusta informazione e la giusta crescita professionale tra tutte le attività coinvolte grazie ancora buona serata a tutti e grazie per l'attenzione arrivederci Francesco Buono beh io mi associo innanzitutto nella duplice ruolo diciamo di relatore e di commoderatore ai ringraziamenti verso chi ha gestito condotto e animato questo incontro estremamente interessante abbiamo visto vari punti di vista mi fa anche piacere che ci sia stata qualche difformità perché io vedo sempre con sospetto quando ci sono ecco cori monocordi in cui tutti hanno lo stesso punto di vista tutti ripetono le stesse cose ho visto punti di vista diversi questo credo che sia un arricchimento per tutti deve essere implementata la fiducia tra tutte le figure professionali mi piace anche che siano stati ricordati gli infermieri nel complesso di quello che sarà il cambiamento in atto e quello che ha detto la dottoressa Bandi mi ha colpito quando dice a questo bancone arriva di tutto arriva una persona che magari viene in un ambiente dove vengono dispensati dei consigli e dei farmaci e magari se ne esce con un qualcosa che potrebbe sembrare poco interessante che nasconde invece delle cose da approfondire questo sicuramente è vero questo posso garantire avviene pure nei nostri nei nostri studi se noi potessimo trasmetterci con un pochino più di libertà queste informazioni non faremmo certo un soldo di danno e faremmo l'interesse del nostro cittadino paziente mi tocca rilevare e lo dico con un po' di rammarico come talune esasperazioni delle normative sulla privacy che sono intercorse nell'ambito di questi anni hanno delle volte contribuito a un eccesso se vogliamo di riservatezza sulle comunicazioni che non fa il bene di nessuno e credo che in materia probabilmente si debba cambiare qualcosa noi sappiamo che non è questione di normativa italiana sappiamo che è normativa europea quindi i passaggi sono un pochino più complessi però credetemi poter avere un po' meno vincoli su tutto quanto ciò andrebbe a vantaggio veramente di tutti e soprattutto dei cittadini e forse dei rigorismi eccessivi che abbiamo avuto nel passato hanno fatto da pandan a quello che era uno squilibrio in senso opposto quando magari si parlava di problemi intimi e personali cora un popolo con la porta aperta e con tanta gente che sentiva tutto quello che veniva detto questo chiaramente è un eccesso un qualcosa che non va assolutamente fatto quindi giuste le aree di rispetto giusto il colloquio diadico con il proprio paziente però ecco magari alcune situazioni tipo il nipote che viene a prendere il farmaco la prescrizione del farmaco per il nonno che non si può muovere magari nemmeno può firmare il consenso affinché ci possa andare il nipote nel corso di una terapia cronica insomma cerchiamo di ragionare tutti quanti visto che si parla di messaggi alle istituzioni in modo adulto e maturo e quindi situazioni di questo genere sono situazioni che io vorrei vedere scomparire perché sono l'antiprossimità perché mi dite voi come io posso obbligare una persona di 99 anni a dover venire personalmente oppure a dover firmare se purtroppo non può firmare allora ci deve essere quello che ha il provvedimento di legge per cui può firmare a nome di il tutto per fare che per andarsi a prendere la ripetizione magari di una terapia cronica che gli fa del bene e per cui deve superare tutto l'ambardam di questi problemi ovviamente questo non certo per semplificare quello che è rispettivamente la professione del farmacista e del medico che rispettivamente danno quel farmaco e glielo prescrivono perché non è che siamo come in attività puramente commerciali in cui viene detto di prendere una cosa e quella cosa viene presa però ci sono situazioni e situazioni ecco un conto chiaramente è rifornire chi ha necessità purtroppo di dover perseguire certe terapie è un conto e fare una nuova diagnosi di questo abbiamo parlato con il contributo tra l'altro della PCR che vorremmo vedere esteso e praticato e magari ha valorato per quanto riguarda la definizione dei profili di rischio anche da dati scientifici ancora più numerosi ancora più convincenti quindi io ringrazio chi ha partecipato ringrazio chi mi ha invitato ringrazio chi consente la realizzazione di questo importante assise telematica e che dire spero che questo possa nel futuro nuovamente replicarsi come tutti abbiamo sentito tanti pareri illustri abbiamo avuto anche degli interventi che sono stati pubblicati e li avete letti e li avete letti sulla sulla chat altri li avremmo dovuti citare ma non siamo riusciti non riusciamo a citarli tutti ma li state leggendo e li avete letti abbiamo l'ultima gli ultimi 30 minuti che invece saranno a porte chiuse dedicheremo noi a rielaborare per il documento di sintesi tutto il razionale scientifico e le cose le osservazioni che sono uscite finora quindi anch'io sono credo soddisfatto di avere raccolto tutti questi pareri su un tema così specialistico ma che si rivolge in ultima analisi a risolvere dei problemi pratici concreti dei cittadini concordo concordo pienamente ringrazio tutti per aver partecipato e anche per questo ultimo giro di tavolo con i vostri take on message che noi appunto adesso raccoglieremo per la stesura di un documento diciamo di consenso che poi ovviamente riceverete potete modificare rielaborare integrare grazie mille a tutti e vi auguro buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti